Benvenuti di martedì, allora il Nobel per la fisica, eccolo Giorgio Parisi, Enrico Letta e questo solo per iniziare. Benvenuti di martedì, buonasera Enrico Letta, segretario del PD, vengo subito a lei alle elezioni, ma prima le presento il vincitore del Nobel per la fisica, Giorgio Parisi, con legato con noi, buonasera Professor Parisi, tanti complimenti allora. Buonasera. Buonasera professore. Buonasera, grazie. Proprio alla fine di un periodo in cui la scienza ha dovuto combattere con l'irrazionalità, anche nel nostro piccolo, in questo studio, il premio Nobel l'ha vinto un italiano. Ci dice per che cosa l'ha vinto? Guardi, io l'ho vinto per tutta una serie di studi che ho fatto sulla complessità, ho introdotto essenzialmente questo tema della complessità nel campo della fisica, a partire da sistemi microscopici dove si guardano gli atomi fino a sistemi sempre più grandi, il volo degli uccelli, l'ecologia e poi ho studiato anche un po' i cambiamenti climatici. Le posso fare grandi complimenti, è un orgoglio nazionale per tutto il Paese in questo momento, questo momento di rilancio, di ripartenza, credo che sia la più bella notizia che poteva arrivare, quindi grazie per quello che ha fatto e veramente complimenti. Poi è una cosa semplice, ha sentito. Grazie a seguitati. Professore, grazie davvero, ora ci spiegherà più tardi la nostra parte dedicata alla scienza, nel concreto di cosa si è trattato. Tra l'altro, appunto, è un anno che sta andando, sono cose diverse, ma lo sport, la scienza, diciamo, un'Italia civile che ci fa sentire. Professore, resti con noi. Adesso, onorevole Letta, presenta lei e i telespettatori, Teresa Vergalli. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, è un grande piacere ospitarla, Teresa, classe 1927, partigiana, attivista, scrittrice, maestra elementare. Senta, Teresa, il centrosinistra che vince subito a Napoli, Milano, Bologna, Valba all'ottaggio a Torino e Roma, se lo aspettava? Lo speravo, però avevo anche paura, perché l'opinione pubblica è molto mutevole, secondo me. E poi, la politica, la democrazia, è una cosa difficile e la gente non ha più voglia di impegnarsi. E secondo me questo è un male. Ma, sa, ci sono anche parole che sono tornate molto in voga proprio in questi ultimi giorni, che vorremmo capire con lei se hanno il significato che avevano una volta. Ad esempio, la parola fascista. Le faccio vedere questo breve filmato. Allora, Teresa, questo sa bene l'inchiesta che Fanpage ha fatto, l'ha mandata in onda Piazza Pulita la settimana scorsa, ha scosso il dibattito elettorale, Giorgia Meloni ha detto che questo è un complotto, perché in qualche misura stanno ritirando fuori dal nostro passato cose che non ci appartengono più. Lei che impressione le hanno fatto queste immagini? Quello che ha visto è fascismo o semplice goliardia? Secondo me molta gente inneggia il fascismo senza sapere cos'è stato. In Italia non si sa cos'è stato il fascismo. E quindi anche queste forme assurde, che a me fanno molto dolore, molta rabbia, dipendono dalla non conoscenza. Ci sarebbe bisogno di riconoscere quello che ancora di fascismo nella nostra vita c'è. Perché quando si sente qualcuno incitare all'odio, cioè cercare un colpevole di tutto, anche questa è una forma di fascismo. Hitler ha colpevolizzato gli ebrei, Mussolini ha colpevolizzato gli oppositori, e poi quando si discrimina quello perché è handicappato, e Hitler li faceva fuori gli handicappati, quando si insulta uno perché ha la pelle più scura o perché ha qualche difetto, anche questo è una delle radici del fascismo. Lei dice in qualche misura non fermiamoci alla parola fascismo, andiamo a vedere i contenuti del fascismo, e là troveremo la discriminazione, troveremo la violenza, che è quella che ci deve far paura. Allora io le porterò su due aspetti che sono usciti fuori in queste elezioni. Il primo è il crollo della cosiddetta bestia di Salvini, quella macchina da informazione che invece colpevolizzava, centrava contro o delle minoranze o delle singole persone, centrava il messaggio politico duro, in qualche misura anche violento, di Matteo Salvini. La vicenda Morisi, cosa le fa pensare? Quando si dice parlare bene e razzolare male, è un proverbio vecchio ma si applica in molti casi, e in questo caso in particolare, però devo dire che sui problemi della droga, sui problemi della prostituzione, eccetera, io sono tutto sommato una ragazza del secolo scorso, quindi ho ancora questi pudori, diciamo, a entrare in questo argomento, però penso che questa persona se l'è meritato, perché sapendo quello che faceva e predicando quello che predicava, poteva aspettarsi che da un momento all'altro venisse fuori la verità. Salvini poi, per Stefano Cucchi, non ha mica avuto tanta pietà, ha detto che praticamente era un drogato, come dire, se lo meritava, se l'è andato a cercare. Adesso che tocca a casa sua, allora trova la pietà. Teresa, un'altra persona che dice lo state facendo per fermarmi è Giorgia Meloni. Lei dice avete tirato fuori dei piccoli frammenti di una realtà per inchiodare il mio partito al fascismo, mentre io ho fatto i conti con la storia della cultura politica che ha generato Fratelli d'Italia. Secondo lei, i conti con la storia, Giorgia Meloni l'ha fatti? Giorgia Meloni è una furbona, sa dire le cose, ma tutti lo sanno che il suo partito è un partito nostalgico del fascismo e quindi è inutile che fa tante parole. Lo sappiamo tutti che i fascisti, se hanno da scegliere un partito, scelgono lei, che poi abbiano anche dei loro gruppi tipo Forza Nuova, tipo quelli di Casa Pound, eccetera. Non significa che quando è ora di votare votano per lei. Io sono andata a votare con tutti i miei anni, per la prima volta mi sono fatta accompagnare da mio figlio e da mia nuora, ma ci andrò sempre finché avrò un po' di fiato, perché questa libertà di voto ce la siamo conquistata con tanto dolore, con tanti morti, tanti ragazzi della mia età che sono stati più sfortunati di me, tante donne partigiane che sono state torturate. Allora bisogna andare a votare. La gente che non c'è andata è perché, non lo so, perché l'ha dimenticato, perché è scorreggiata. O forse, io spero che una parte sia rimasta a casa perché ha pensato che adesso c'è Draghi e che ci pensa lui, che è bravo lui. Il che è anche un sentimento che condivido anch'io, c'ho fiducia in Draghi. ma non basta Draghi, c'ha bisogno dell'opinione pubblica, c'ha bisogno di noi che lo aiutiamo e degli italiani che mettono in pratica bene i programmi che ci sono in corso e uno di questi programmi potrebbe essere quello di curare bene la scuola e di far insegnare bene la storia nella scuola. questo io vorrei. Grazie Teresa Vergalli, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Veniamo a noi Enrico Letta. Buonasera. Benvenuto, benvenuto. Allora, complimenti. Le presento, Lily Gruber, la conosce, La Sette, una delle firme più importanti della TV in libreria con la guerra dentro, il dovere della verità per Rizzoli. Benvenuto Alessandro Sallusti, direttore di Libero Quotidiano e bentornata la professoressa. Elaria Capua, virologa, dirige il centro di ricerca di eccellenza dell'Università della Florida. inizieremo a ragionare con loro ma saranno in tanti gli ospiti che ci aiuteranno a ragionare su quello che è successo. È soddisfatto intanto? Beh sì, oggettivamente sì. Un risultato importante, positivo, su tutta la linea, contento. Ovviamente bisogna non montarsi la testa, bisogna gestire bene questo risultato adesso perché siamo in un momento molto particolare della vita italiana. Però posso dire, sì, aggiungo, sei mesi fa quando sono diventato segretario nazionale del PD e sono rientrato dalla Francia non avrei mai immaginato di ritrovarmi in questo momento con un risultato così positivo. Mi preoccupa anche un po' perché in Italia quando poi le cose vanno bene poi subito girano, no? Come sono girate a Salvini e Meloni? Sembrava andasse tutto bene, la destra era così forte. Cos'è che non ha funzionato per loro? Beh, secondo me non hanno colto il fatto che è cambiato completamente il vento sia a livello europeo che a livello nazionale. Cioè, quest'idea di essere sempre contro l'Europa, questo tema del sovranismo, tutte questioni che hanno funzionato qualche anno fa quando l'Europa non era generosa e solidale come lo è stata adesso con i soldi europei del post-pandemia, quando c'era Brexit, quando c'era Trump, c'era una tendenza in cui in quel momento andava bene. E adesso cosa c'è? Secondo me adesso c'è una voglia di ricostruire, di ripartire, c'è una voglia di fare delle riforme importanti, oggi è una giornata complessa. Però quella voglia c'era pure prima e che adesso la interpreta qualcun'altro. Ha visto Draghi che vi ha fatto fare le elezioni, dice qualcuno, e subito dopo ha detto adesso si fa il fisco. Come se la politica e le cose da fare fossero due cose separate. Però c'è una differenza nel senso che oggi Draghi ha potuto tirare dritto perché c'è una parte della maggioranza importante, noi tra questi, che gli hanno consentito di andare avanti sulla riforma fiscale mentre la Lega non ha partecipato al Consiglio dei Ministri. Quindi non è la politica da una parte rissosa, incasinata e Draghi no. C'è una parte della politica che è su una linea chiaramente oggi di contrasto a quello che sta facendo Draghi e una parte della politica che sta aiutando ed è pilastro importante di quello che Draghi sta facendo. Noi siamo in questa seconda parte. Cosa indirebbe se le dicessi che si sta come aprendo un crepaccio ma non tra destra e sinistra all'interno del centro-sinistra e all'interno del centro-destra e non sono nei guai solo Salvini e Meloni anche i Cinque Stelle stanno nei guai. Cioè rimanete voi ai governisti del centro-destra perché c'è Draghi e si perdono un po' i forti di quelli che erano fortissimi fino a qualche mese fa. Beh c'è stata appunto rispetto al voto del 2018 in cui si disse hanno vinto i due populismi che poi hanno fatto il governo insieme il famoso governo giallo-verde la mia impressione è che c'è stata un'evoluzione di una delle due parti cioè il Cinque Stelle ha deciso di avere Conte oggi come leader e Conte sta portando il Cinque Stelle su una strada che è molto diversa dalla strada sulla quale... No no io penso che sia diverso Qual è la differenza tra lei e Conte? Beh insomma su molti temi abbiamo avuto approcci diversi abbiamo per esempio parlato sul tema del reddito di cittadinanza con delle differenze abbiamo parlato e stiamo parlando su altre questioni per esempio questione di politica internazionale con delle differenze quindi lui ha i difetti e lei prege no sono i difetti anche i miei sono i difetti anche i miei sono i difetti anche i miei ma non siamo la stessa cosa lo si è visto in queste elezioni non siamo la stessa cosa però non si può passare sopra a un dato di queste elezioni ora vedremo quanto ha influenzato e quanto è no però due forti scandali il primo è Salvini il caso Morisi che abbiamo sentito anche la nostra intervistata in apertura in qualche misura ha dato un'immagine una patina quasi di ipocrisia dal punto di vista di chi ha valutato Salvini dice beh ma con i tuoi sai una mano così morbida così accogliente con gli altri così dura e dall'altro lo scandalo che ha colpito Fratelli d'Italia con quelle dichiarazioni del loro eurodeputato sul fascismo con l'invito a fare il nero questi due sono due scandali capitati proprio al momento giusto o no? Secondo me non hanno spostato più di tanto il risultato elettorale io penso che il risultato elettorale sarebbe andato così perché la questione erano i candidati la scelta dei candidati che è stata fatta noi abbiamo scelto candidati chiaramente più forti e più in grado di incontrare il consenso degli elettori loro hanno scelto i candidati secondo me male li hanno scelto con uno scambio tra di loro non c'è un candidato loro che abbia fatto una performance importante o che abbia recuperato qualche cosa ma forse la farà amichetti no? vedremo il ballottaggio però insomma quello che voglio dire è che non si faccia adesso il discorso perché che loro hanno perso perché ci sono stati due scandali tra l'altro due scandali non è che se li ha inventati qualcuno sono cose vere realistiche ma al di là di questo io credo che la sconfitta del centro-destra sia nel tipo di scelte che hanno fatto le dico un'altra cosa non lo sto dicendo io Berlusconi nel momento nel quale Domenica è andato a votare ha sostanzialmente ammesso che avevano sbagliato tutto quindi il tema di fondo è che il centro-destra ha la prova chiave cioè candidature per le grandi città italiane i grandi sindaci oggi sono personaggi e leader internazionali dovunque non si può trattare le grandi città italiane senza questo tipo di ambizione Alessandro Sallusti prima domanda buonasera presidente detto che il giorno dopo ognuno può sostenere d'aver vinto e trova sempre delle argomentazioni Salvini nel pomeriggio ha detto che stamattina si è svegliato con 63 sindaci in più di prima e quindi sostiene d'aver vinto tutti le fanno i complimenti e io mi associo però mi chiedo anche perché le sto facendo i complimenti perché tutto sommato cioè avete vinto a Bologna dove come dire avete governato da sempre avete vinto a Napoli dove l'ultimo sindaco non di sinistra credo che fosse Achille Lauro negli anni 60 a Roma dopo un'esperienza drammatica con la Raggi avete lasciato il 20% a un vostro concorrente a Torino che è una vostra roccaforte andate al ballottaggio con un signore del centrodestra cioè perché è così entusiasta di quello che è successo non ha fatto il suo onestamente ma per un motivo molto semplice l'altra volta nel 2016 quando si sono votati gli stessi comuni noi non vincemmo nessuno di quei comuni al primo turno punto nessuno lei ha citato Bologna prendemmo il 40% a Bologna l'altra volta a Milano che poi vincemmo andammo al ballottaggio non si vinse al primo turno a Napoli non andammo nemmeno al ballottaggio e poi sappiamo tutti Torino e Roma come finì quindi oggi noi di quelle cinque metropoli che sono alla fine il volto del nostro paese o una parte importante del volto del nostro paese noi tre di quelle metropoli le abbiamo vinte al primo turno e le altre due siamo confidenti siamo fiduciosi nel fatto di poterle vincere mi dica se quello che le ho detto non è da essere contenti francamente mi sembra un risultato se lei puoi prendere le cifre il risultato di Sala a Milano al primo turno con uno scarto credo di 25 punti dall'altro candidato il risultato di l'epore a Bologna Presidente io credo che io credo che a Milano avrebbe vinto chiunque detto che Sala è stato un ottimo sindaco stimato anche dai lettori non di sinistra e questo va detto con grande chiarezza però a Milano avrebbe vinto chiunque nella situazione in cui si è presentato il centrodestra detto questo complimenti glieli faccio anch'io però lo sa qual è il punto il punto è questo molto si sta dicendo e si sta cercando di limitare il risultato elettorale dicendo ma il centrodestra ha sbagliato i candidati però francamente se Mancini va a giocare alla finale di Coppa del Mondo e mette in campo una squadra diciamo con le terze linee è Mancini che poi viene licenziato perché se devi giocare la partita più importante devi mettere i giocatori Lilli Gruber dice Enrico Letta non è tanto nei numeri che la nostra vittoria ma di essere entrati in sintonia con un'idea che il paese ormai ha della politica e della leadership quanto c'è di vero e che domanda vuoi porre Enrico Letta e poi chiediamo a Ilaria Capua perché un paese cambia modo di pensare dopo una pandemia come questa prego Lilli allora penso che i partiti della destra quindi Meloni e Salvini abbiano fatto un po' finta come se la pandemia non ci fosse stata come se non il virus non circolasse più non fosse più tra noi e quindi hanno forse un po' sottovalutato l'Italia che in questi lunghi mesi di sofferenza di sacrifici di aumento della povertà delle disuguaglianze gli italiani sono cambiati ma questo è una considerazione l'altra considerazione invece è della mia domanda per Letta perché io le faccio i complimenti posso fare i complimenti a tutti quelli che riescono a ribaltare dei risultati elettorali intanto qualche risultato lo dovete ancora ottenere perché per esempio a Roma riuscirete ad avere i voti di Calenda al ballottaggio e tra Calenda e Conte chi scegliete perché Calenda vi dice di mollare i grillini lei vuole un campo largo e questa mi spieghi un po' da che parte vi posizionate voi del PD e poi le voglio un po' sedare gli entusiasmi perché Salvini oggi è tornato a picchiare sul governo in modo molto molto serio perché al Consiglio dei Ministri i Ministri della Lega compreso quindi Giorgetti non ci sono proprio andati e non hanno votato la delega fiscale ora da me poco fa il Ministro Orlando ha detto un comportamento molto grave perché mette a rischio le riforme necessarie per il PNNR ma mette a rischio anche lo stesso governo la Lega deve uscire a questo punto quindi due questioni sulla prima questione la mia risposta è noi non faremo accordi e non proponiamo accordi con altri partiti accordi di vertice Gualtieri a Roma Lorusso a Torino Russo a Trieste parlo dei tre capologhi di regione chiederanno e chiedono il voto ai diversi altri candidati che non si possono presentare al secondo turno perché non hanno passato il secondo turno e chiederanno il voto a loro e cercheranno quindi di ottenere quel voto lì senza accordi e le giunte che faremo saranno giunte che non saranno frutto di accordi se vinceremo quindi il discorso di dire Calenda Calenda e Conte possono stare nella sua larga coalizione nel nuovo Livo non ho nessun dubbio che la mia risposta è sì per me e io sarà quello che proporrò a tutti e due ma ovviamente non lo proporrò domattina perché domattina noi parleremo agli elettori di Conte agli elettori di Calenda sono veramente tanti ad esempio la c'è sia sia chi guarda voi sia chi guarda Michetti ed è difficile immaginare che una campagna dura come quella della Raggi finisca facendo confluire i suoi voti nel candidato del PD perché secondo lei io penso che il secondo turno delle elezioni non è il secondo tempo è un'altra partita completamente nuova si confrontano due candidati in una partita completamente nuova dovranno i due candidati farsi vedere entrambi parlare e la gente sceglierà io penso che la gente tra una persona come Gualtieri e una persona come Michetti si metterà una mano sul cuore e alla fine deciderà di votare Gualtieri professoressa Ilaria Capua la gente inizia a ragionare anche in maniera diversa noi abbiamo sempre detto durante questa pandemia è lei che ci fa da bussola ci spiega come stanno andando le cose è proprio ospite di Lilli Gruber una settimana fa lei ha detto beh parliamoci chiaro l'emergenza è finita iniziamo a trattare questo Covid come se fosse che cosa professoressa il Covid l'abbiamo messo nel recinto questo mi sembra evidente cioè i fenomeni pandemici hanno una fase di attacco violento dove trovano tutti i semafori verdi perché l'ospite e le persone non hanno anticorpi non hanno strumenti per proteggersi e gli unici strumenti che hanno sono appunto le mascherine e il distanziamento adesso noi ci troviamo in particolare in Italia con una percentuale di vaccinati molto alta e quindi finalmente siamo riusciti a metterlo nel recinto questo che cosa significa non significa che il virus andrà via il virus si sta endemizzando quindi sta passando dalla fase pandemica di attacco alla fase endemica che è di circolazione virale diciamo un po' sottotraccia come tante altre malattie che conosciamo che cosa vuol dire che possiamo allentare la guardia ma possiamo dire che sappiamo di avere degli strumenti adesso il virus trova tutti i semafori rossi per la stragrande maggioranza trova semafori rossi quindi siamo riusciti a confinarlo a tenerlo in un recinto adesso tirerà qualche calcio secondo me sì quest'inverno si vedrà qualche cosa ma la vita può tornare alla normalità e bisogna veramente comunicare alle persone che questo virus si comporterà come un'influenza quindi provocherà dei casi clinici nelle persone non vaccinate provocherà anche qualche caso clinico non grave nelle persone vaccinate ma comunque possiamo ritornare prima di tutto a non avere più paura e allora professoressa abbiamo in Italia pochi morti e anche se c'è un po' di circolazione attiva bisogna mettere in atto gli strumenti che abbiamo che conosciamo e riprendere la vita normale professoressa abbiamo iniziato segnalando nel mondo della politica una linea di frattura che divide i razionali dagli irrazionali in qualche misura questa linea di frattura nasce durante il covid e quanto io so che lei non parla volentieri della politica italiana quindi le farò una domanda di politica in qualche modo internazionale o planetaria quanto la gestione il prendere atto che eravamo davanti a un'epidemia e che bisognava fare cose anche dolorose ha dato il segno di una parte politica e quanto il negare il covid la mascherina la necessità del vaccino addirittura in molti casi ha segnato un'altra parte politica io posso dire che anche se ci fosse stato il piano pandemico migliore al mondo questo piano pandemico non avrebbe mai considerato articolo 1 tutti i leader aderiscono a questo piano pandemico perché era dato per scontato e quindi il vulnus secondo me principale proprio all'inizio della pandemia è stato il vulnus del negazionismo i leader di democrazie occidentali hanno anche in alcuni casi ridicolizzato questa emergenza e a quel punto si è spaccata la forza di reazione cioè le persone seguono i loro leader se il tuo leader dice questa è una stupidaggine tu ci credi cosa devi fare è solo che il momento in cui ci credi che è una stupidaggine eccolo che non ti proteggi e quindi il virus ha avuto questa diciamo accelerazione iniziale proprio perché le persone non si sono fra virgolette tenute per mano tutte e non si sono dette noi dobbiamo combattere questa cosa insieme c'è stata questa spaccatura iniziale che secondo me è stata la causa per cui la pandemia ha fatto tutti questi vedremo anche se chi semina vento raccoglie tempesta in altri campi prima voleva intervenire Lilli Gruber prego Lilli perché io volevo chiedere all'onorevole rispondere alla seconda domanda di prima perché siccome anche lei pensa che lo strappo di Salvini sia un gesto gravissimo lo stesso Draghi ha detto oggi che va chiarita questa questione che il governo va avanti ma come fate ad andare avanti con i ministri leghisti che su una riforma cruciale anche per ottenere i soldi del PNRR come la riforma fiscale non la vota e non si presenta neanche in consiglio dei ministri devono dimettersi i ministri leghisti devono uscire dal governo come pensate di andare avanti e voi continuate a fare i responsabili sostenendo il governo Draghi la parola chiave è responsabilità anche per quello che dicevamo con la professoressa noi sosteniamo questo governo per fare la riforma fiscale la riforma fiscale come lei ha appena detto una riforma fiscale molto importante è la condizione per avere i soldi del PNRR lì dentro c'è il superamento dell'IRAP ci sono le semplificazioni fiscali ci sono tanti concetti molto importanti oggi la Lega si è assunto una responsabilità ma anche nuove tasse come dice Salvini e comunque come giudica questo strappo di Salvini neanche 24 ore dall'esito elettorale se lo aspettava è uno strappo incomprensibile a meno che appunto non lo si leghi al risultato elettorale di ieri cioè il risultato è stato talmente disastroso per la Lega che Salvini ha bisogno che si parli di altro e quindi sta cercando di coprire con un altro tema è evidente che lo strappo sulla riforma fiscale è pesantissimo perché non è uno strappo su una piccola cosa il tema di fondo qual è su questa vicenda è che stiamo parlando di una delega fiscale quindi lì dentro non c'è scritto nulla delle cose che ha detto Salvini oggi rispetto a nuove tasse e quant'altro delega fiscale vuol dire che deve andare in Parlamento però ridisegnano i valori catastali e poi dicono ci fermiamo qua è chiaro che poi arriverà qualcuno il Parlamento deve discutere della delega che poi deve tornare in Consiglio dei Ministri poi devono essere fatti i tegreti delegati stiamo parlando dell'inizio di un percorso non stiamo parlando della maggioranza di governo onorevole Letta perché ci vorrà una cosiddetta verifica della maggioranza di governo perché uno strappo così non è stato solo Salvini è stato anche il ministro più filo draghiano come Giorgetti a non presentarsi in Consiglio dei Ministri io penso che sia uno strappo molto grave di cui Salvini e la Lega si assumono la responsabilità nei confronti del Paese e ovviamente sarà Draghi a decidere noi sapete tutti come la pensiamo e cioè su questo tema noi siamo a sostegno del governo e pensiamo che sia insopportabile di avere una forza politica che sta dentro e fuori ovviamente ora sentiremo anche Alessandro Sallusti intanto saluto Lilli che deve lasciarci per impegni ma più tardi torna per parlarci del suo libro benvenuta Tiziana Panella anche lei colonna di questa rete tagadà dal lunedì al venerdì pomeriggio sulla sette e benvenuto Massimo Giannini direttore della stampa buonasera allora Alessandro Sallusti cosa ha sbagliato la destra? dice giustamente Ricoletta ma se sbagliano la formazione poi non è che se la possono prendere con altri se la prendessero con loro ma ci sono anche dei fatti che hanno provocato tensioni all'interno del centro-destra ad esempio giovedì scorso a Piazza Pulita Giorgia Meloni ha commentato così l'inchiesta esclusiva di Fanpage guardate cosa dice Meloni sulla inchiesta di Fanpage per quanto si possa fingere di non vederlo era tutto studiato cento ore di girato dalle quali vengono estrapolati dieci minuti di video piazzati in prima serata a due giorni dalle elezioni ma in modo tale che sui giornali finissero nel giorno di silenzio elettorale Sallusti Giannini che ne pensate con domanda relativa a Enrico Letta naturalmente beh dice dice una cosa oggettivamente vera è andata così io guarda sono mi sembra di averlo sempre dimostrato per l'assoluta libertà di stampa ognuno è di informazione ognuno a casa sua fa quello che vuole però a me questo giornalismo fatto di provocatori di agenti provocatori dove tu vai da qualcuno per tentare di corromperlo a me non è che entusiasmi a maggior ragione se non abbiamo presente tutto il quadro ma sono state estrapolate delle parole a Meloni chiede una cosa semplice fatemi vedere tutto il girato e da lì capirò se sono di fronte a un mascalzone o se sono di fronte a una strumentalizzazione come non dargli ragione massimo Giannini il tuo parere e poi andiamo Enrico Letta e Tiziana Panella Massimo Giannini guardate non ci bastava il giornalismo la giustizia orologeria adesso anche il giornalismo è orologeria tutto è orologeria qua non si può fare più niente perché quando si sta per votare qualunque cosa fai sembra che vuoi sabotare qualcuno qua la questione banalmente per quello che riguarda Giorgia Meloni non è nuova non è di oggi a me non scandalizza e non preoccupa tanto il tentato abbordaggio sul finanziamento della campagna elettorale c'è un altro come diceva Berzani un'altra mucca in corridoio io dico un cinghiale in corridoio in questo caso ed è il legame di quel milieu di quella retroterra che è dietro Giorgia Meloni e che però ne sostiene tanta parte dell'azione politica che ha un legame diretto con il fascismo e quel tipo di cordone ombelicale Giorgia Meloni non riesce a reciderlo io non penso che Giorgia Meloni sia fascista assolutamente no però non riesce mai a dire una parola definitiva per troncare quel cordone ombelicale lei dovrebbe dire il mio partito fratelli d'Italia con il fascismo non ha nulla a che vedere noi lo ripudiamo con convinzione e rifiutiamo i voti dei neofascisti che ne pensa e ricolletta quando dirà questo io sarò tranquillo e sereno finché non lo fa ci sarà sempre quella zona grigia e non per caso lei quando è stata intervistata o quando ha fatto quel video la parola fascismo non l'ha mai nominata è un problema della destra italiana tuttora irrisolto credo che Massimo Giannini abbia fatto una sintesi che condivido molto chiara nella reazione Giorgia Meloni dice non c'è spazio per razzismo xenofobia e nazismo e neonazismo al nostro interno non ha mai detto non c'è spazio per il fascismo al nostro interno evidentemente perché c'è la voglia di solleticare o comunque di mantenere un rapporto con una tradizione con certi mondi tutta la abbiamo visto anche in questa campagna elettorale ho visto Caio Mussolini tutte le è evidente che c'è un tra l'altro tutto questo sembra oggi più forte oggi di vent'anni fa io facevo politica vent'anni fa vent'anni fa a me non sentivo in giro tutta questa presenza ma allora forse non è importante vuol dire che c'è un ritorno un pochino di tutte queste tendenze rispetto alle quali io credo che Fratelli d'Italia sbagli e la Meloni sbaglia a non essere netta e chiarissima ora lo domanderemo un autorevole esponente quell'inchiesta è stata nettissima nel senso che il capogruppo al Parlamento Europeo di Fratelli d'Italia ha degli atteggiamenti che sono incompatibili con la carica che ha allora Tiziana Panella non è l'unico scandalo di questi giorni c'è anche Salvini Salvini Morisi i toni che usava Salvini che in qualche misura si potrebbero ritorcere contro di lui ti faccio sentire cosa diceva nell'agosto scorso Matteo Salvini sui migranti non è possibile che anche in queste ore stiano sbarcando migliaia di immigrati senza nessun controllo ne ho le palle piene di immigrati che sbarcano in Italia e poi vanno in giro a fare i comodi loro per andare a mangiarsi la pizza a campagna bisogna avere il green pass mentre per sbarcare non c'è nessun limite non c'è nessuna regola cosa è cambiato per la destra Tiziana Panella domanda anche Enrico Letta a Enrico Letta voglio chiedere una cosa che probabilmente tiene insieme tutte le cose di cui stiamo parlando stasera e cioè io sono molto colpita dal dato dell'affluenza lo diciamo ogni volta ma questa volta forse vale di più delle altre volte e sono colpita da quel dato perché secondo me quel dato tiene dentro tutto tiene dentro quello che è successo oggi pomeriggio io lo seguivo in diretta da una parte c'era il premier Draghi dall'altra parte c'era la conferenza stampa di Salvini una specie di sfida a distanza e mi sono chiesta chi è a casa l'elettore cosa starà pensando perché Salvini ci sta dicendo che aumenteranno le tasse Draghi ci sta dicendo che è una scatola e che quindi ancora tutto è da fare e uno dice che è bugiardo l'altro e allora l'elettore cosa starà pensando e lo stesso vale per gli scandali io non credo che abbiano inciso in maniera diretta ma credo che abbiano dato l'idea di una politica che si fa comunicazione che è solo comunicazione che non è più politica e che poi ad un certo punto va in cortocircuito penso al caso Norisi penso anche alla vicenda della Meloni dove attenzione le questioni giudiziarie si risolveranno adesso credo Giovanni che sia stata aperta anche un'inchiesta per il finanziamento illecito ai partiti però lì c'è un tema c'è un giornalista Berizzi che vive sotto scorta per diciamo le minacce dell'estrema destra e allora lì se tu lo insulti se tu lo dileggi c'è un tema che è più politico e invece si perde il contatto con l'elettorato e allora la domanda è quanto ci deve preoccupare quanto siamo lontani da quello e quanto la ricaduta di quello poi si vede nelle urne ma innanzitutto lo schema che lei ha appena detto è uno schema perfetto cioè lo schema di dire Salvini dà del bugiardo a Draghi Salvini dice e gli elettori che cosa deve scegliere secondo me la giornata di oggi è una giornata in cui è plasticamente venuta fuori una scelta e credo che l'elettore o il cittadino guarda e decide mi fido di più di Salvini o mi fido di più di Draghi noi la nostra scelta l'abbiamo fatta l'abbiamo già fatta da tempo e la confermiamo oggi noi ci fidiamo di Draghi non ci fidiamo di Salvini e allora forse dobbiamo chiedere noi faccioletta dobbiamo chiedere a Salvini di stare fuori ma questo io dobbiamo chiederlo a Draghi di pretendere che Salvini di stare fuori certo che a lui piace però forse lo dobbiamo vorrego le posso inserire però guardi che nelle città hanno detto che stanno con lei e non con Salvini ove ci fosse un voto nazionale forse il parere sarebbe diverso e forse quelle frasi che abbiamo sentito di Salvini avrebbero un effetto ancora maggiore no io penso che oggi quello che sta succedendo ed è successo dimostra che gli italiani hanno cambiato atteggiamento e stanno cambiando atteggiamento tutto quel consenso che c'è stato a favore di sovranismi e nazionalismi oggi mi sembra molto calante però la domanda che lei ha fatto è la chiave cioè la questione dell'astensione io la gioia per il risultato di ieri per quanto mi riguarda è mitigata dalla bassa partecipazione al voto che per me è sempre un segnale molto negativo per la democrazia noi stiamo lanciando le agorà democratiche dentro il partito democratico invito tutti a iscriversi alle agorà democratiche sono un modo per cercare di rinvigorire la partecipazione perché quando la democrazia è in crisi alla fine paghiamo tutti Alessandro Sallusti voleva intervenire tra l'altro abbiamo recuperato la frase che diceva Enrico Letta di Giorgia Meloni in cui non esce mai la parola fascismo esiste tutti gli altri ismi prego mandatela e poi Sallusti la domanda che vuole a Letta non c'è spazio in Fratelli d'Italia per razzisti per antisemiti e per paranazzisti le persone che sono rintratte in quel video sono state allontanate da Fratelli d'Italia se qualcuno le ha ricontattate per ravanare 10 voti di preferenza ha fatto secondo me un errore gravissimo Sallusti beh più chiara di così il paranazzismo il fascismo credo che possa rientrare nel paranazzismo volevo fare due domande velocissime al presidente Letta su due temi che ha toccato il primo se stiamo dal punto di vista storico la più grande tragedia del novecento è stato il comunismo io non ho mai sentito un vostro dirigente dire io ripudio il comunismo e non voglio i voti dei comunisti altro tema cambio su quello che è successo oggi con Salvini Salvini ha come dire giurato ai suoi elettori che mai e poi mai avrebbe contribuito ad alzare la tassazione neanche in prospettiva allora le chiedo se questo governo presentasse una scatola come la chiamate con dentro delle cose contrarie a quello che lei a quello che lei crede è quello che lei ha promesso ai suoi elettori cosa farebbe lo approverebbe perché lo dice Draghi o come dire si rifiuterebbe di tradire il mandato che ha ricevuto dai suoi elettori ma intanto sulla prima questione per essere chiari la questione del ripudio del fascismo è scritta in Costituzione italiana per cui il fatto che su questo punto non ci sia chiarezza da parte della Meloni mi sembra assolutamente evidente e c'è questo a quest'idea che bisogna sempre fare il pareggio uno a uno è un'idea che non c'è nella Costituzione e non la si può dire così è ovvio che la tragedia del comunismo sovietico di ciò che è successo in Cambogia di quello che siamo tutti d'accordo io non ho nessun problema a dirlo ma nella nostra Costituzione c'è il ripudio del fascismo quindi Sallusti su questo io mi dispiace ma dissento in modo totale sulla questione delle tasse attenzione perché le tasse qua la delega fiscale sta dicendo diremo che una casa che sta a Piazza di Spagna che è catalogata uno diventerà dieci ma non alziamo le tasse però dice Salvini è ovvio che poi le alzerete Salvini sta dicendo agli italiani Draghi vi mente allora io penso se devo credere a qualcuno credo a Draghi Draghi ha detto che queste riforme non saranno riforme che portano a aumenti fiscali io credo a Draghi non credo a Salvini è molto semplice io volevo spostare l'attenzione sul rapporto con i 5 stelle abbiamo parlato a lungo di Salvini ma mi interessa capire un'altra cosa presidente Letta voi avete detto sia lei che lo stesso Conte ieri ha risultato acquisito che la soluzione resta quella dell'alleanza strategica tra il partito democratico e il movimento 5 stelle ora però succede un fatto piuttosto curioso se vogliamo anche se a mio parere abbastanza scontato cioè i rapporti di forza sono totalmente capovolti alla luce di questo risultato elettorale cioè non siete più voi lo junior partner di una eventuale alleanza strategica con i 5 stelle ma sono loro allora la domanda che io le faccio è Giuseppe Conte come qualcuno di voi aveva detto Nicola Zingaretti in particolare resta il forte punto di riferimento dei progressisti in questa nuova alleanza asimmetrica a favore vostro oppure nel momento in cui vi presenterete alle elezioni cosa che credo possa accadere anche molto prima di quanto noi immaginiamo per esempio febbraio dopo che Draghi sarà andato al Quirinale il candidato premier di questa alleanza non sarà più Conte ma sarà lei io non credo che si voterà l'anno prossimo lo dico con grande chiarezza penso che sarebbe sbagliato votare a febbraio perché penso che il nostro paese abbia da fare oggi delle scelte importanti questa riforma fiscale è una di queste e soprattutto abbia da spendere i soldi del PNRR c'è un'attenzione da parte di tutta Europa che ci ha dato tanti soldi ed è lì alcuni europei in attesa che noi facciamo diciamo ci comportiamo come loro si aspettano cioè li freghiamo quando parlate con certe cancellerie del nord Europa uno dei modi col quale pensano quindi Draghi non andrà al Quirinale presidente Letta io l'ho detto in tutti i modi e lo ripeto anche qui penso che questo governo debba completare la legislatura fino alla sua scadenza naturale penso che sia una cosa importante per il paese e per l'Europa quindi io spingo in questa direzione e questa a mio avviso è una delle cose fondamentali per dare agli italiani il senso di questa ricostruzione di questa ripartenza insomma dalla formula ai Draghi cioè lui importante però c'era la domanda non voglio eludere la domanda perché se no l'importante è che stiate tutti insieme per Draghi o che ci sia Draghi l'importante è continuare questa azione di governo che secondo me è molto efficace non eludo la domanda però non eludo la domanda per dire semplicemente che questo rapporto con il 5 Stelle continua per me è un rapporto positivo e aggiungo il rapporto con Conte continua dopodiché non si è mai parlato non si è mai discusso della modalità con cui ci presenteremo alle elezioni perché le elezioni sono fra 20 mesi diciamo che Giannini che è molto ma molto attento sa benissimo che quella cosa lì del riferimento non è che l'ha detta Giannini neanche io mi sa neanche lei però qualcuno non era ancora rientrato lei non era rientrato le chiedono direi ma insomma Conte lo sa secondo lei guardate io confermo no 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 mi faccio fare i fatti suoi Conte lo sa io confermo assolutamente che per quanto mi riguarda Conte rimane un punto di riferimento per l'alleanza che dobbiamo costruire un punto di riferimento assoluto Tiziana quindi io non ho nessun dubbio sul fatto che andremo insieme lavoreremo insieme però sono cambiati i pesi evidentemente il partito democratico di cui io sono segretario è consapevole del fatto che questa alleanza deve essere larga e essendo larga e la vi siete sentiti al telefono vale che va lo prendete nel PD Conte no perché non credo guardi io ho molto rispetto per Conte soprattutto e credo che Conte stia facendo delle cose importanti là dove le sta facendo e io tifo perché lui abbia successo in tanti anni abbiamo avuto su questa poltrona tanti tipi di leader abbiamo avuto leader emotivi come Berlusconi potenti come Renzi oppure cerebrali come ci sono stati alcuni Salvini Meloni Letta che leader è perché poi alla fine se i risultati gli danno ragione bisogna prendere atto che funzioni allora funzionare mi sembra di sì anche se poi non so se l'esperienza delle amministrative è replicabile e lo sappiamo però primo giro direi molto bene secondo me lui sta pensando primo giro troppo bene c'è qualcuno che lucide i coltelli sì a me piace moltissimo la frase io adesso ho deciso che la metterò all'ingresso della sede del PD la frase che ha detto il leader che ha vinto le elezioni tedesche Olaf Scholz e a quello che gli diceva ma lei c'ha poco carisma non è che sta facendo una campagna dove ha detto oh qui ci si candida per fare il cancelliere della Germania non per fare il direttore del circo ecco quella frase io la metterei sopra perché secondo me la politica cosa dice insomma entra Diego Bianchi Zoro propaganda live oggi tutta la sette c'è un intervento di Sallusti prego Alessandro Sallusti mentre Zoro si prepara è velocissimo no volevo chiederle volevo chiederle ma come fa a pensare di tenere assieme i voti di Calenda i voti dei 5 Stelle perché i voti non sono solo dei numeri sono delle persone con delle idee con dei principi e mi sembra che lei cerchi di tenere assieme due cose che in natura non possono stare insieme di Calenda e i grillini guardi la mia risposta è facile è molto facile io l'ho fatto in questa campagna elettorale nelle urne di Siene e Arezzo ieri e ieri l'altro nel collegio che mi ha eletto deputato c'è stato non soltanto gli elettori di quei partiti ma c'è stato l'appoggio formale di quei partiti perché in quel collegio io sono stato sostenuto dal 5 Stelle e da Italia Viva questo lo dico perché non è che sto facendo discorsi astratti sto facendo discorsi si hai visto già il tema perché Zora poteva rispondere beh ma però di tenere insieme Bertinotti e Rutelli ma erano altri tempi si hai visto di peggio io volevo intanto ho portato questo per ricordare al segretario chi era fino a poco tempo fa cioè era questo era il vaso degli esteri e c'è stato un tracollo no è partito questo nuovo ciclo la spieghi per i non a ditte di propaganda c'è stato un momento in cui tu era professore in cui noi abbiamo dato voce al vaso degli esteri che era il vero protagonista della Farnesina in tutte le foto di Di Maio e lui in quel momento diciamo giocava con noi e però politicamente è stato molto importante dopodiché adesso mi è diventato segretario del PD addirittura vincente che è una roba abbastanza diciamo che non si è particolarmente abituati quindi nell'invitare il segretario a tenere un profilo bassissimo ma proprio una roba proprio terra terra proprio a non montarsi la testa mai per citare perdone guarda chi eri guarda chi sei mi pari tu zio sarebbe questa la citazione altissima ma non volevo dire questo e agganciandomi alla considerazione che faceva prima Fabrice in compagni di scuola ma è utile che glielo sia a dire però l'importante è che sappiate che anche in questa campagna elettorale a Siena e a Arezzo io ho avuto ho incontrato un sacco di gente campagna di territorio le cose fuori perché la quantità di persone che mi hanno chiesto ma quando è che rifai il vaso degli esteri è stata superiore a quelli che mi hanno applaudito ma di gran lunga e questo dice molto sullo spessore il carisma di cui poco anzi no dicevo per citare Tiziana Panella prima sull'astensionismo che è stato clamoroso soprattutto a Roma impressionante e che un segretario non può che vuole usare anima e che ascia vita insomma non può sottovalutare ma c'è anche un altro dato ancora io ho mia figlia che ha votato per la prima volta a questo giro 18 anni e lei e i suoi amici ci sono andati con entusiasmo pari a zero per cui ci sono quelli che non votano e ci sono quelli che votano che già stanno a votare il meno peggio a 18 anni che è una roba terrificante no? Nel senso uno è contento E chi hanno votato? Eh vabbè questo non si può dire siamo ancora a valutaggio Guarda posso dire una cosa posso dire che so che molti giovani hanno votato Calenda a Roma questo ora sul perché diciamo compito vostro però è così è così questo è già un dato quindi volevo sapere soprattutto perché oggi ho visto la conferenza stampa di Michetti e Meloni tra l'altro a giorno oggi Meloni non ha detto fascismo ha detto nostalgismo qualunque cosa sia e beh ci avviciniamo un favorello non ce l'ha fatta neanche oggi e però Michetti oggi il primo appello forse più che agli elettori di Raggi e Calenda l'ha fatto l'ha fatto a tutti quelli che non hanno votato che comunque sono voti potenzialmente che stanno lì per queste due settimane quindi pensateci ci sta pensando Qualtieri ci sta pensando il PD faccio un'ultima domanda e poi mi taccio per quale motivo il PD o comunque la sinistra sono già due tornate elettorali che quasi non concorre non compete in una regione come la Calabria da cui io sono tornato una settimana fa che è piena di problemi di cui si parla all'improvviso per settimane tipo l'emergenza sanitaria qualche mese fa e poi la si dimentica la si dà ma dovremmo parlare anche Mimmo Lucano e lo faremo sentire un po' sì quella è un altro paragrafo ancora questa seconda domanda mi ferisce perché io ero e sono convinto che noi avessimo trovato una ottima candidata a presidente Amalia Bruni una neuroscienziata che ha lavorato in vita sua e tutta la vita sul tema delle malattie degenerative che conosce la salute la sanità il risultato è che probabilmente ci siamo arrivati tardi l'abbiamo costruita questa candidatura in ritardo questa parola l'abbiamo già sentita e lo so però è già al secondo giro lo so però il tema di fondo è che l'impegno per trovare una classe dirigente che fosse secondo me con Amalia Bruni c'è farà opposizione lì e io lo dico da qui io voglio ripartire da lei perché è una personalità straordinaria quindi per quanto è un'area della Calabria ci sono andate varie volte classe dirigente Mimmo Lucano senta questa intercettazione sai cosa dovresti fare come ha fatto Stella Stella si è sposata adesso con il governo nuovo c'è uno che si chiama Minniti una brutta persona vi mandano via vi cacciano allora Stella si è sposata hai capito? sì ho capito l'ho sposata io tatà veloce 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 con Nazareno non è vero che si è sposata con Nazareno capito? però con i documenti risulta così Mimmo Lucano è buono ma la legge non si può andare contro la legge o no? è evidente che non si può andare contro la legge ed è evidente che le sentenze si rispettano dopodiché adesso non ripeto non voglio andare oltre ma 13 anni io francamente 13 anni per me rimane un'entità assolutamente sproporzionata e aggiungo una seconda considerazione tre giorni prima del voto e attenzione non è giornalismo perché ho visto che è stata messa insieme l'inchiesta di fanpage Lucano Morisi ma avere il tema di una sentenza su un candidato perché Mimmo Lucano era candidato quindi una sentenza su un candidato tre giorni prima del voto per me c'è abbastanza per accendere un focus su questo detto questo questa cosa qui per quanto mi riguarda non modifica il nostro ragionamento sull'indipendenza della magistratura e sul fatto che le sentenze si rispettano ma quello che ho appena detto lo pensano credo la maggioranza degli italiani prego no mi ha preceduto il segretario perché benvenuto nel club di quelli che non sono convinte che le sentenze si devono accettare senza essere discusse ci sono sentenze molto discutibili è che è un lavoro che voi non avete mai fatto in vent'anni di mettere in discussione le sentenze ma la questione della data per me è forse di tutte queste vicende la più clamorosa perché non esiste rispetto a un candidato a un'elezione c'è un'elezione che la sentenza venga espressa tre giorni prima però si potrebbe pure dire è meglio sapere prima chi sbaglia a votare capito ma sapere prima allora un mese prima due mesi prima io credo che ci fossero tutti i tempi per riuscire ad evitare un impatto così evidente e così clamoroso francamente Diego Bianchi io sulla vicenda sono estremamente di parte conosco Mimmo Lucano l'ho conosciuto lo seguo so cosa fa e in materia di immigrazione è stato e continua ad essere molto più a sinistra del PD su tante questioni diciamo che finché non si scopre un conto personale alle Cayman è difficile io insomma non lo so finché le dà tutto è possibile ma la vedo un po' dura e vi chiedo di essere molto breve scusate prego Lucano non è stato condannato per il suo modello di immigrazione è stato condannato per uno sper per un uso illegale di soldi pubblici allora mi spiega perché se un sindaco della Brianza spende male i soldi deve andare in galera e Lucano no ma perché la differenza è che 13 anni francamente mi sembra che in Italia non si danno nemmeno ormai più agli assassini questo è fuori dubbi diciamo la verità questa è la cosa clamorosa assolutamente clamorosa nel doppio di quello che era stato chiesto piccola pausa per noi 50 secondi allora la professoressa Fornero che spero sia già eccola qua la professoressa Fornero chiediamo cosa cambia con le tasse ridisegnate da Draghi e chi paga di più se cambia il catasto dopo una piccola pausa passate le lezioni il gioco si fa duro le tasse Andrea Scazzola e qui c'è oro a quanti carati? oro 24 carati oro sempre oro l'oro consola l'oro riporta alla vita anche quando quello che si vuole è lasciare l'anno del covid dalle spalle ma per sentire l'oro sulla pelle bisogna avere il portafoglio giusto il prezzo del cofanetto è di 950 euro adesso si ricomincia a uscire quindi dobbiamo cercare di sfoggiare il meglio di noi dopo due anni che ci hanno rinchiuso il festeggio è mio compleanno 23 questa serata quanto si spende? un po' di pene 1.500 si spende tanto perché l'oro sempre l'oro anche a tavola non può mancare lo champagne con dell'oro commestibile all'interno che è 24 carati siamo sopra i 500 euro a bottiglia ma la gioia è anche e sempre il vestito giusto ricamato a mano vengono intorno ai 5.000 euro su misura possiamo arrivare a 10.000-15.000 euro ti porto a conoscere un nuovo concetto del lusso da Yezael qui anche una giacca denim ha un prezzo speciale 4.600 euro e in questa siamo sui 3.500 al morso dello squalo è uno squalo che però quando morde ti lascia una bella cascata di Swarovski ma sono i gioielli quelli veri che ci raccontano il lusso Giada nera oro 18 carati brillanti 37.000 euro la ricchezza non è importante essere felici è importante avete visto i nostri autorevoli ospiti ora piano piano ve li presenterò iniziamo il professor Raffaello Lupi lei ha capito per chi scenderanno le tasse ora che la delega fiscale esiste per quei lavoratori dipende per i quadri che hanno una quarantina di migliaia di euro 45 di stipendio insomma annuo questo cosa vuol dire ci racconta chi sono vuol dire sono i dipende i bancari dirigenti della sette visto che siamo qui insomma un po' di autori lo spero per loro ecco insomma gente che ha uno stipendio buono ma non è ricca di quanto scenderanno scenderanno dipende quanto abbassano quel maledetto 38% che inizia a 27 mila euro cartello 20 giù le tasse per i redditi tra i 28 e i 55 mila euro riduzione anche per i redditi sotto i 15 mila questo ci si chiede professor Cottarelli saliranno per qualcuno le tasse ma guardate la delega fiscale è estremamente vaga su tutte queste cose ricordiamo questa è una legge delega una legge che delega il governo a fare una riforma che sarà poi realizzata nei suoi dettagli che in quest'area sono importantissimi attraverso decreti legislativi il testo della legge delega dice cose che la riforma per esempio dell'IRPA dovrà comportare una riduzione dell'aliquota media graduale va bene e evitare salti negli scaglioni dell'aliquota marginale tra cui appunto quello più grosso è quello che avviene tra il secondo e il terzo scaglione ma tutto il resto è estremamente vaga infatti forse uno dei motivi per cui questa cosa ha creato un po' di problemini politici è proprio che forse si approvava una cosa che non era poi così chiara altro che problemini c'è la lega che dice io al consiglio dei ministri non ci voglio essere in qualche risulta sono già usciti e professoressa Fornero lei che ha capito una volta che metteranno le mani sul fisco i migliori di Draghi cosa ne uscirà? ma io ho capito che in effetti c'è l'intenzione di abbassare un po' le imposte sui redditi da lavoro ma anche sui redditi da impresa perché si parla di fattori produttivi che dovrebbero essere sgravati un po' per favorire la crescita e questo è una cosa buona poi ho capito che i principi sono tutti molto condivisibili ma come diceva prima Carlo Cottarelli poi ci voglia il dettaglio delle misure e questi sono tutti da definire i dettagli quindi molto bene i principi vediamo i dettagli i dettagli che spaventano la lega e non solo la lega sono ad esempio quelli che riguardano il catasto Andrea Scazzola questa è la città di Catania questo è il centro e queste zone che prima erano dei quartieri ambiti oggi sono degradati questo fabbricato qui è censito in categoria A2 quindi con una rendita elevata qui la rendita catastale è alta ma se si va in periferia per il fisco la casa vale poco per il mercato molto questa è molto più elevata come valore di mercato rispetto all'altro società e mercato cambiano il catasto è fermo a criteri del passato le dimensioni di questo locale che è la cucina sono notevolmente inferiore a quelli del vano però per calcolare la rendita catastale questo conta come un vano due vani tre vani oggi si vende al metro quadrato insomma si tratta di adeguare i valori catastali a quelli del mercato perché gli scompensi ci sono ad Imperia l'immobile di 90 metri quadri uso abitativo ha un valore catastale di circa 70 mila euro a fronte di un valore di mercato che può superare i 200 mila euro ecco qui che i valori si invertono invece se andiamo a Pordenone 125 mila euro il valore catastale al mercato 90 mila euro da comune a comune le cose cambiano ma il governo dice che gli italiani sulla casa non pagheranno tasse più alte sarà proprio così in varianza di gettito quindi sarà il risultato zero per l'erario però ci sarà chi pagherà più imposte e chi ne pagherà meno allora che cambia professor Lupi è molto divertente questa cosa perché il valore catastale in catasto Giovanni non esiste noi abbiamo un catasto reddituale cioè c'è la rendita catastale che sarebbe il reddito teorico annuo il valore viene con la moltiplicazione per dei moltiplicatori uguali per tutta Italia fatti un po' così aspannometricamente per cui è sacrosanto quello che sta scritto nella delega cioè abbiniamo all'immobile anche un valore cioè scriviamolo nei registri catastali se uno prende casa sua il certificato catastale di casa sua oggi il valore non c'è allora cambiano il valore ma dicono però non è che su quello valuteremo le tasse intanto cambiamo il valore esatto ci dice è proprio la delega è estremamente timida dice guarda per ora ci inseriamo anche il valore poi vedremo dal 2026 forse per cui non capisco che se ne faccia una bandiera politica la conoscete agente immobiliare conduttrice tv però se io cambio il valore praticamente faccio la prima mossa poi aspetto che altri facciano la seconda ma se io ho cambiato il valore saliranno anche le tasse prima o poi o no e quindi è un'invarianza temporanea diciamo in attesa che entri in funzione questa vera riforma sicuramente per qualcuno aumenteranno le imposte perché quel qualcuno che magari si è avvantaggiato fino adesso di queste sperequazioni che abbiamo visto di zona e divani per qualcun altro diminuiranno quindi ci sarà se le cose verranno fatte bene una redistribuzione per teste quindi pagheranno contribuenti diversi magari con un'inversione abbiamo visto di carte e anche di case quindi io cambio le regole del fuorigioco ma non lo faccio fischiare ancora però prima o poi succederà però mi sto preparando per potere al popolo che sta succedendo ma allora a parte il fatto che mi sembra chiaro le intenzioni io sui principi invece della riforma fiscale che vuole fare il governo dei migliori non sono assolutamente d'accordo nessuno che ha il coraggio di dire l'unica volta che si è tentato timidamente di nominare la parola patrimoniale che manco veramente era una patrimoniale c'è stata la levata di scudi di confin dussa e non se ne è fatto nulla e invece in questo paese oggi visto che le disuguaglianze sono aumentate a dismisura lo dicono tutti ci sarebbe da parlare davvero di fare una riforma fiscale però realmente progressiva e decidere finalmente i tassari grandi patrimoni allora professor Cazzola cosa succede invece cartello 22 guardate il catastro mi sembra di capire che bene o male stiamo cambiando i valori senza da questi attingere nuove tasse dove si attingessero nuove tasse sarebbero IMU seconda casa tasse compravendita della casa tariffa rifiuti EISE che è il reddito diciamo il redditometro sulla base del quale si accede a determinati servizi professor Cazzola fa bene la Lega a dire no non toccate nulla perché tanto so che alla fine alzerete le tasse ma io secondo me no secondo me ridisegnare il sistema fiscale del catastro a rispetto a quelle che sono i valori adesso la struttura la composizione anche degli immobili nelle città di oggi secondo me è giusto ci sono delle case magari che sono ancora catastrate come case agricole mentre oggi magari appartengono a un'area in cui la città si è sviluppata per esempio si fa tanto parlare delle ZTL se guardiamo i valori catastrali di queste case che peraltro costano molto perché sono case centrali vediamo che hanno un valore catastrale che è molto basso quindi moderazione finché si vuole gradualità finché si vuole ma io credo che se mettiamo un pochino d'ordine in una situazione confusa facciamo bene quanto poi la patrimoniale è una scelta ideologica è una scelta ideologica anche perché come disse una volta Monti se mettiamo una tasca su quel patrimonio il patrimonio sparisce professore aspetti che è proprio di patrimonio parliamo perché il patrimonio innanzitutto bisogna trovarlo e esiste un tesoretto di immobili fantasma Andrea Scazzola il piano regolatore generale aveva previsto una zona agricola quindi da questo incrocio a salire sono tutte quante abusive qui a Ercolano come in tanta parte d'Italia costruire fuori delle norme è stata la regola a Ercolano abbiamo più di 5.000 domande di condono almeno quando si chiede il condono l'abuso emerge ci sono fabbricati invece che per il catasto non esistono sono fantasmi per scovarli l'agenzia delle entrate ha un sistema questo è uno stralcio di mappa catastale c'è una particella che senza fabbricati se la mettiamo al confronto con l'immagine satellitare ecco che ci accorgiamo che ci sono dei fabbricati che non sono riportati in mappa qui se gli uffici del catasto sovrappongono le mappe ai rilievi satellitari purtroppo ne trovano di edifici fantasma già dieci anni fa il catasto ha cominciato la caccia ai fantasmi che sono tanti circa 1,2 milioni di unità immobiliari chi viene scoperto dovrà finalmente pagare secondo anche gli ultimi dati del ministero dell'economia e delle finanze potrebbe comportare un maggior gettito di più di 500 milioni di euro ma al dunque per lo Stato è possibile sanare tutto e fare cassa e questo è uno scempio ma lo Stato non deve fare cassa su questo lo Stato questa roba qui la deve abbattere Professor Lupi com'è possibile nel 2021 esistere ancora delle case che non si vedono? Ma perché nessuno prende l'inizio una cosa è vederle da Google Maps un'altra cosa è andare lì notificargli un atto cioè l'idea scrivo un atto trovo il proprietario glielo notifico poi come glieli chiedo i soldi cioè si arriva questi sono milioni di case cioè non c'è l'eco mostro che vale 3 miliardi di euro posseduto da Paperon de Paperoni sono milioni di gente che si è tirata sulla casa e vacce un po' al combatte noi stiamo parlando quindi di pura teoria si rivedono i valori si fa un censimento alle case ma tutto è come se non cambiasse nulla su quelle censite qualcun altro poi penserà a farci cassa no ma lì basta abbassare le aliquote l'aliquote è un fatto politico il valore della casa viene dal mercato poi che aliquota ci metto sopra è una decisione politica allora Pietro Senaldi è condirettore di Libero e fa bene la Lega opporsi alla revisione del Catasto beh sta facendo politica di fatto dopo tanto tempo mi verrebbe da dire di fatto non è che si è opposta vuole vederci chiaro diciamo non firma una delega in bianco anche perché giustamente poi entrerà in vigore nel 2026 Salvini il ragionamento è io mi posso anche fidare di Draghi ma nel 2026 chi ci sarà se ci sarà Letta per esempio è difficile allora noi sappiamo che la battaglia fiscale è fondamentale per la Lega è un collante del centro-destra siamo al giorno al day after di una sconfitta elettorale è vero che Draghi ha rimandato due volte la riforma fiscale per farla arrivare dopo le elezioni chiaramente le elezioni della Lega le ha perse il giorno dopo chinare il capo sulla casa che è una delle cose di bandiera della Lega francamente mi sembra naturale la reazione di Salvini mi sembra politica la politica ci vede lungo dice Salvini a qua Draghi sta mettendo a posto delle nuove unità di misura poi però dipende quali queste unità di misura dipende chi le toccherà dice Lupi se le tocca qualcuno che abbassa le eliquote per determinate case le tasse scendono anche se cambiano gli estimi allora che gioco sta giocando Draghi Fornero Cottarelli e poi torniamo in studio Guardi la mia impressione è che parlare di tassazione della casa in Italia è come parlare di riforma delle pensioni cioè un governo che tocca questi temi è un governo destinato a diciamo molta impopolarità a pagare un prezzo politico elevato c'è un contenuto fortemente emotivo in questi temi perché io credo che molte persone possano essere d'accordo che avere una ricchezza per esempio in case di abitazione possa comportare una tassazione ragionevole molte persone sono d'accordo sul fatto che se io ho una casa ed è nascosta al fisco al catasto beh questo non è giusto e quindi il fatto di riportarla dentro e magari tassarla un po' anche questo può essere corretto però come cominci a parlare di questi temi la ragionevolezza scompare e invece domina l'emotività e allora il governo vuole agire con molta cautela secondo me giustamente professor Cottarelli anche qui è una cosa molto lenta e abbastanza vaga ci sono queste revisioni che dovranno essere completate entro il 2026 non cambiano la base imponibile della tassazione i criteri per queste revisioni sono quelle che ci potremmo aspettare a me sembra che anche questo aspetto della riforma della delega fiscale confermi una cosa che io ho detto da tanto tempo cioè che non c'è modo che questo governo che è così diverso c'è il centro-destra e il centro-sinistra possa fare davvero una riforma chiara delle tasse perché non c'è niente di più politico delle tasse a me questo mi sembra una cosa per dire abbiamo fatto anche questa cosa perché l'avevamo promesso ma nella realtà è estremamente vaga questa riforma poi verranno i politici e la toccheranno loro allora Marta Collotto Giuliano Cazzolai faccio vedere come ad esempio in Olanda si interviene persino a favore dei redditi alti Silvia Ciufolini nei Paesi Bassi lo Stato ha un occhio di riguardo per le famiglie aiuta chi ha bisogno ma non trascura neanche chi ha un reddito alto come Nico e Paola che vivono ad Amstels in vicino Amsterdam nella loro nuova casa abbiamo due bambini riceviamo trimestralmente un sussidio dallo Stato che ci viene riconosciuto già dalla nascita si chiama Kinderbeisch e cambia in base all'età dei bambini da 0 a 5 anni 224 euro a bambino trimestralmente poi dai 6 agli 11 anni 273 euro e dai 12 a 17 anni ci viene riconosciuto 320 euro a bambino lavorando entrambi hanno portato i loro figli all'asilo e al doposcuola e per questo hanno ricevuto un sussidio noi pagavamo sui 1800 euro mensili per portare a mandare tre giorni alla settimana i nostri bambini al doposcuola e lo Stato ci rimborsava due terzi anche se non ne avevamo bisogno insomma un bel risparmio 1200 euro un incentivo che viene erogato solo quando si lavora in due ma lo Stato accompagna i bimbi anche a scuola con ulteriori agevolazioni noi paghiamo giusto una montare annuale di circa 130 euro però non paghiamo i libri non paghiamo i quaderni per ora non abbiamo mai pagato le gite scolastiche dei nostri bambini allora Giuliano Cazzola cosa ci rende così diversi all'Olanda? lì si aiutano anche i redditi alti da noi si deve scegliere a chi tagliare l'IRPEF in base alle risorse a disposizione e si rimanda a ridisegnare la casa io potrei dire che la differenza sta nel fatto che l'Olanda probabilmente ha un sistema pensionistico come quello immaginato dalla riforma Fornero nel senso che l'Olanda se taglia le tasse vuol dire anche che spende meno che spende meno di quello che spendiamo noi anche perché non è che si può diminuire le entrate e aumentare le spese come vorrebbe fare la Lega e quindi io credo peraltro che sia giusto tenere conto che i redditi diciamo medio-alti e alti pagano quasi in Italia pagano quasi tutta l'IRPEF credo che al di sopra quel professor Lupi mi correggerà dei 35.000 euro grosso modo ci sia un 12% di contribuenti che paga il 50% di IRPEF e cartello 20 bisognerà anche tenere conto di questo e allora aspetti aspetti cazzola viviamo da 10 anni in un regime di gogna quindi io mi accontento del fatto che i redditi medio-alti non vengono impalati in piazza maggiore a Bologna aspetti professor Cazzola fermate professor Cazzola cartello 20 arriviamo al piano politico Marta Collot taglio IRPEF le ipotesi giù le tasse per i redditi dai 28 ai 55.000 euro forse anche per i redditi sotto i 15.000 ma dice Cazzola e in qualche misura l'UPI diciamo corrobora questa tesi le tasse le pagano quelli è là che bisogna andare a farle scendere a me sembra folle che passiamo finita qua siamo quasi due anni di pandemia in cui francamente sentire ripetere le stesse cose come se non fosse successo assolutamente nulla mi sembra una cosa allucinante allora rispetto ha visto i gioielli ha visto i gioielli vestiti allora infatti il punto è che viviamo il problema è esattamente questo che mentre le persone hanno iniziato a morire di fame sempre più persone non arrivano alla fine del mese c'è qualcuno si può permettere gioielli di quel tipo quindi il fatto che ci debba essere una tassazione fortemente progressiva perché si litiga sempre su numeri e numeretti fortemente progressiva io ripeto una patrimoniale e essere ideologica non sono io è chi dopo 30 anni con le stesse politiche di privatizzazione che ci hanno portato in questa situazione oggi il governo Draghi continua a dare soldi alle imprese e vuole diminuire ultimamente l'IRAP che è una tassa per le imprese per il servizio sanitario nazionale dopo due anni di pandemia non ci perdiamo perché l'IRAP è una tassa sull'attività produttiva però soldi per la sanità pubblica non ne ha stanziati il governo Draghi mi dice che cosa non quadra nel discorso della patrimoniale come è facile o difficile trovare un patrimonio e poi andiamo da Giulia Garbi se ci spiega è sbagliato quello che ha detto prima non mi ricordo chi che spariscono i patrimoni i patrimoni delle persone fisiche sono o immobili oppure patrimoni finanziari ma non c'è nessuno ormai che c'è più il conto offshore l'abbiamo visto con la voluntary disclosure tre anni fa quei pochi che ce li avevano li hanno riportati tutti in Italia la gente non si fida nella dichiarazione ormai i redditi i patrimoni all'estero li indicano tutti quindi questa cosa che i patrimoni delle persone fisiche spariscono se li tassi è una stupidaggine Giulia Garbi mi dice invece se riappaiono le case che sono scomparse quali tasse emergono? Sicuramente l'Imu ha messo che siano delle categorie soggette non esenti perché a proposito di esenzioni ed elusioni che sono due paroline chiave nella legge delega quindi il primo obiettivo è quello di fotografare l'effettivo stato patrimoniale complessivo dello stato perché mancano molte case all'appello e di anche altre che ci sono non si sa la destinazione d'uso quindi tornando alla risposta pagano sicuramente l'Imu se non sono le 34 milioni di case dichiarate come abitazioni principali che sono esenti e poi paghiamo l'imposta di registro che è l'imposta che si paga nelle transazioni quindi nelle compravendite paghiamo un IRPEF se abbiamo una casa una seconda abitazione dove non abitiamo scusate dove non abbiamo la residenza nello stesso comune in cui risidiamo cosa manca ancora registro IRPEF e Imu 60 etari chiaramente l'IRPEF rimodulata chi dovrà agevolare non si capisce perché tutte queste diciamo così obiezioni che fa Salvini anche sui redditi perché uno dice rivendo i redditi delle case ma non aumento più le tasse non aumento le tasse siccome io non credo che Draghi abbia tempo da perdere allora cosa li rivede a fare se non cambia il gettito fiscale anche l'IRPEF cosa lo rivede a fare se poi non cambia niente è evidente che se uno mette mano al fisco è perché cambierà qualcosa anche un po' di pereguazione si chiama pereguazione Fabio Rampelli vicepresidente della Camera Fratelli d'Italia benvenuto benvenuta Francesca Donato europarlamentare Michela Marzano scrittrice filosofa Repubblica La Stampa in libreria con stirpe e vergogna per Rizzoli Marco Damilano il direttore dell'Espresso Pietro Senaldi il condirettore di Libero Antonio Caprarica giornalista scrittore in libreria con Elisabetta altri ospiti ci raggiungeranno è arrivato no ancora no allora Marco Damilano questo è il filmato che ha fatto discutere un po' tutti l'inchiesta di fanpage guardate di che si tratta questa allegra brigata nera esatto bravo bravo Norma è la nostra camerata doc una vecchia fascista c'è una vecchia fascista poi a chi mora allora non solo saluti romani in riferimenti a Hitler ma la notizia di oggi è che Fidanza è indagato anche per riciclaggio e finanziamento illecito perché emergevano anche richieste di denaro in nero Marco Damilano a Fabio Rampelli che questioni vuoi porre? ma la domanda è abbastanza semplice perché in questi giorni si è detto Ionghi Lavarini che questo è il barone nero è quello che porta il giornalista di fanpage davanti a Fidanza è una macchietta uno sconosciuto nessuno lo conosce ha un ricco curriculum espone foto di Mussolini in ufficio era presidente di alleanza nazionale del consiglio di zona di Milano 3 voleva intitolare a Mussolini piazzale Loreto nel 1992 dice ci vorrebbe Hitler per domare la criminalità a Milano ha distribuito croci celtiche a San Siro ed è stato condannato a due anni per apologia di reato tutto questo però non farebbe testo se non fosse che è stato candidato con Fratelli d'Italia nel 2018 alla Camera nella circoscrizione della Lombardia allora la domanda è molto semplice perché è così difficile nel 2021 dire un fascista noi nelle nostre liste non lo vogliamo nei nostri incontri non ce lo portiamo non gli facciamo il saluto romano perché è così difficile perché dire datemi cento datemi le cento ore di filmato basta un minuto per dire di questo personaggio non venire le nostre inizioni l'aiuto con un filmato della Meloni che dice tutto ciò che condanna ma fascismo non esce fuori guardate non c'è spazio in Fratelli d'Italia per razzisti per antisemiti e per paranazisti le persone che sono rintratte in quel video sono state allontanate da Fratelli d'Italia se qualcuno le ha ricontattate per ravanare dieci voti di preferenza ha fatto secondo me un errore gravissimo non bastava dire anche fascisti ma guardi io penso che voi siate disinformati perché noi questa presa di distanza rispetto al fascismo l'abbiamo fatta dai tempi insospettabili addirittura neanche esisteva Fratelli d'Italia neanche esisteva Alleanza Nazionale perché la generazione che ha fondato Fratelli d'Italia è la generazione che ha anticipato l'avvento di Alleanza Nazionale con la cosiddetta svolta di fiuggi quindi non si sa di che cosa stiamo parlando e perché l'avete candidato? quelle persone lì sono state già abbondantemente sospese ma l'avete candidato alla Camera? ma perché non è che noi possiamo sapere vita e morte meno di ciascuna persona questo non è possibile dire questo invece è possibile invece è possibile perché se la sinistra candida se la sinistra si trova ad aver candidato personaggi che vengono dai centri sociali o che fanno o ostentano facci il mantello eccetera penso che probabilmente hanno avuto qualche diciamo così difetto di ricostruzione del curriculum di rinforzare no c'è poco da meravigliarsi però almeno anche Raudiano ha una lunga militanza lui era un uomo di Raudi non esiste alcuna possibilità di associare il fascismo a Fratelli d'Italia anche perché mi pare evidente che quella esperienza storica si sia consumata e non abbia alcuna possibilità di rivivere in nessuna forza politica i candidati di questo signore sono stati letti i consiglieri comunali ieri sono stati letti i consiglieri comunali di Milano i candidati di questo signore aspettate evitiamo di schiacciare il dibattito su fascisti non fascisti perché forse Michela Marzano il fascismo è qualcosa di più ampio ci diceva all'inizio della nostra intervistata non è solo un periodo storico cos'è? diciamo che il fascismo se si fosse veramente chiuso ciò significherebbe che si potrebbe pronunciare la parola fascismo senza vergognarsi da un lato oppure arrabbiarsi dall'altro cioè i patti la nostra rielaborazione del passato in realtà non l'abbiamo fatta mi puoi anche guardare perché poi ci siamo conosciuti alla camera io la stavo guardando allo schermo guardi non c'è alcun imbarazzo se preferisce mi fa anche piacere ero attratto dal video quindi la stavo osservando dal video non è che ogni cosa che fai da cattivo diciamo noi stavo solo guardando dove era più comodo la posso aiutare cartello 31 Enrico Michetti adesso si sta rispolverando anche il vecchio saluto a distanza quello romano i romani salutavano così perché era il modo più ingenico se per qualcuno eri evocativo del fascismo e del nazismo è un problema suo e allora le dico è un vezzo per tenersi appresso magari un gruppetto di nostalgici è un vezzo che però non pesa allora io non so se sia un vezzo o no considero la cosa gravissima e guardi lo dico lo dico avendo pubblicato un libro proprio oggi che è uscito in cui racconto di mio nonno fascista della prima ora fascista dall'inizio alla fine cosa che io ho scoperto più tardi ed è stato doloroso riattraversare il passato allora che cos'è importante secondo me farci conti perché altrimenti questi rigurgiti il saluto romano fatto da un ragazzino di 40 anni che forse non si rende nemmeno conto ma è questo che è gravissimo candidare nel 2018 una persona che distribuisce croci celtiche sono cose gravissime ma noi questi conti dobbiamo farli e abbiamo bisogno che lo facciate voi abbiamo fatto abbondantemente guardi io penso che lei sia disinformata perché noi questi conti li abbiamo fatti abbondantemente lo dicevo poco fa non so se devo ripetermi l'abbiamo fatto prima ancora che nascesse Fini da un punto di vista politico prima che nascesse l'Alleanza Nazionale e se non ci fosse stata quella generazione non sarebbe mai nata Fratelli d'Italia quindi lei è male informata sarò male informata ma ascolto la vostra leader Giorgia Meloni ha criticato gli pseudonazisti eccetera non ha evocato il termine fascismo e fascisti questo vuol dire che neonazisti non ci possono essere mentre i fascisti sì oppure qual è il problema? dice la stessa noi siamo contro i totalitarismi il fascismo è un'espressione del totalitarismo esattamente come il nazismo esattamente come il comunismo e quindi noi siamo contrari a qualunque forma di totalitarismo nella misura in cui molto semplicemente banalmente vengono conculcate le libertà fondamentali primarie a cui non intendiamo rinunciare la libertà la democrazia la libertà di espressione la libertà di manifestazione la libertà di scrittura non esiste alcuna possibilità di errore semmai qualcuno dovrebbe forse fare le stesse domande ai comunisti però c'è la costituzione italiana la costituzione è il città il fascismo no questo è un altro discorso stiamo parlando di costituzione o stiamo parlando di totalitarismo di costituzione il comunismo comunque è una forma di totalitarismo ma in Italia noi abbiamo un città la sinistra città Francesca Donato e poi Caprari Francesca Donato in questo periodo sono stati due gli scandali uno quello che ha riguardato l'eurodeputato Fidanza l'altro quello che ha riguardato Morisi l'inventore della cosiddetta bestia della Lega in qualche misura ne abbiamo parlato in precedenza torneremo a parlarne è stato detto beh ma guardate che contraddizione questi che erano cattivi con tutti si fanno beccare proprio sui loro temi sulla droga sugli immigrati sulla diciamo sulla poca sensibilità nei confronti di chi scivola Donato e poi Caprarica prego a me sembra che ci sia un grado di ipocrisia veramente insostenibile in queste osservazioni perché a parte il fatto che di fascismo di nazismo possono parlare solo le persone di sinistra mentre appena ne parla una persona che non è di sinistra viene messa alla gogna ma io per esempio sognalo soltanto che Hitler prima di oggi fu l'unico che introdusse una tessera un lascia passare per andare al lavoro per andare nei locali eccetera oggi abbiamo un lascia passare sanitario che è fortemente discriminatorio e da molti visto come una misura fascista però non si può dire soprattutto non lo può dire chi sta a destra se lo dice se dice che c'è una deriva totalitaria una deriva antidemocratica nel nostro paese una persona come Cacciario una persona come Frecciero che è di sinistra lo può dire se invece lo dice una persona di destra è come se fosse una bestemmia allora io dico invece che guardare solo l'immagine guardiamo la sostanza delle scelte ma non voglio crearvi problemi e trago Caprarica già le 100 sarebbero parecchi adesso si trova francamente un po' di si no si si prova un po' di imbarazzo anche di pena nel sentire argomentazioni di questo genere francamente diciamo qui qui il problema abbiamo due problemi davanti a noi gli scandali mi risponda nel merito ma 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 quale merito gentile signora ma quale merito lei non sa di che cosa parla semplicemente non sa di che parla paragonare Hitler al al Green Pass è una roba che può passare per la testa solo a delle persone che hanno la testa un po' nelle nuvole per non dire di peggio comunque lei ha parlato lei ha parlato adesso faccia parlare me allora per quanto riguarda gli scandali di cui stiamo parlando sono due scandali che chiariscono perfettamente la ragione per cui la destra italiana e parlo ragione veduta di destra non centrodestra la destra italiana leghista e fratelli d'italia non riesce ad acquistare legittimità in Europa nel caso Morisi abbiamo un caso gravissimo che va ben al di là della faccenda personale in qualsiasi paese europeo o occidentale avanzato un collaboratore di un ministro dell'interno che sia ricattabile non solo non sta lui più al suo posto ma nemmeno il suo ministro ora nel caso italiano il ministro non c'era più ma vi prego di immaginare che cosa poteva accadere con Morisi al suo posto durante il governo giallo-verde nel caso di fanpage dei saluti romani eccetera ma questo naturalmente è un problema anche più grande se volete e non ce la si può cavare come mi pare stia facendo l'onorevole Rappelli un po' con il folklore nostalgico allora aspetti Caprarica noi basterebbe che no basterebbe un attimo solo scusa Floris basterebbe che la signora Meloni l'onorevole Meloni ripetesse ciò che disse fini nel 2003 a Gerusalemme il fascismo e il male assoluto ditelo e state tranquilli che quei personaggi che avete rimediato alla cena milanese non frequenteranno più il vostro partito allora mentre parlavamo è andato in onda il tweet che Morisi fece prendendo in giro le tesi liberazioniste dei radicali sulla droga diceva vedo la Bernardini sulla sette è proprio vero che la droga invecchia la pelle allora Paolo Berizzi vi presento inviato speciale di Repubblica sotto scorta per le minacce ricevuto in seguito alle sue inchieste sul neofascismo per chi ha visto il filmato l'inchiesta di fanpage mandata in onda da Piazza Pulita è il nome che fan fidanza il suo gruppo per sorridere come si dice smile facendo la foto e dicono Berizzi allora ci racconti il mondo del neofascismo milanese Berizzi innanzitutto buonasera e grazie per l'invito è un mondo che a qualcuno è noto da anni grazie alla meritoria inchiesta di fanpage adesso quelli che prima sembravano molto distratti o che si rifiutavano di vederlo quel mondo lì oggi si accorgono di che cosa è fatto saluti ai romani boia chi molla hail hitler battute contro ebrei e negri la brigata nera per dirla con gli onghi lavarini è un mondo che unisce mette assieme rappresentanti delle istituzioni deputati consiglieri regionali eurodeputati come nel caso di fidanza a personaggi impresentabili come lo stesso Ionghi Lavarini già condannato per apologia di fascismo i capi ultra delle curve e addirittura esponenti della criminalità e organizzata è un mondo fatto di legami solidi non sempre sotto traccia a volte anche manifesti la notizia di oggi non è soltanto che fidanza è indagato per riciclaggio l'altra notizia è che Chiara Valcepina e cioè la candidata della brigata nera di fidanza di Ionghi Lavarini entra in consiglio comunale a Milano quindi entra una che ha fatto campagna elettorale anche condividendo i saluti romani Rampelli Rampelli la replica e poi una domanda per Senaldi è da Milano prego Rampelli e poi torniamo da lei esistono degli ambienti di testa radicale che si atteggiano in questa maniera non v'è dubbio ci sono fortunatamente sono una esigua minoranza in tutta Italia quindi del tutto privi di qualunque dignità politica ma l'accostamento con Fratelli Italia qui proprio non c'entra nulla quindi non si sa di che cosa si stia parlando perché Fratelli Italia non lo ha fatto degli esempi molto chiari guardi ha parlato di sauti domani di inneggiamenti a Hitler di esaltazione della persecuzione degli ebrei non ci siamo perché dentro Fratelli Italia non esiste tutto questo l'ha fatto il capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo le immagini che abbiamo visto sono altre immagini in ogni caso se non c'è nulla da nascondere come chiede la Presidente Meloni sarebbe opportuno e utile se nessuno vuole nascondere nulla che possano uscire fuori le 100 ore di girato perché penso che la contestualizzazione in qualunque mondo in qualunque scena anche a casa del nostro conduttore Floris penso che possano aiutare se non c'è nulla da nascondere 100 ore di girato devono essere disponibili perché intanto comunque ricordo scusi che Carlo Fidanza si è autosospeso dalla carica che ricopre noi siamo disponibili a fare nei confronti di colori quali avessero delle responsabilità tutto quello che è necessario però dobbiamo fare i processi sommari dobbiamo avere gli elementi però una ripresa a casa è differente da una ripresa in piena campagna elettorale vi faccio rivedere Fidanza e poi una domanda per Senaldi e da Milano questi sono i momenti sotto accusa se voi avete l'efficienza al contrario viene più comodo fare il black lei si paga per il black poi si coprirà delle altre spese a quel punto fai diversamente con lei tot ai consiglieri di zona io do i contanti e dico fai l'evento e invita la Val Cepina Fidanza e Rocca il noto presidente di Giro che è un commercialista una serie di lavatricini e fanno loro il versamento tracciato sul conto elettorale vabbè questo era il black non erano i momenti che abbiamo visto all'inizio però Senaldi prima è da Milano in replica dice non solo Lameloni ma anche Rampelli ma non è che alla fine il problema è proprio che non siamo più fascisti perché se fossimo fascisti saremmo pochi invece questo è il primo partito d'Italia ormai ed è per questo che ci tirano fuori questi temi Senaldi da Milano beh allora fammi dire innanzitutto una cosa ma brevissima Morisi ha perso il lavoro a seguito del suo festino di droga quindi direi che la Lega l'ha punito allontanandoli in maniera rapida e decisa poi è giusta la tua domanda perché? perché l'inchiesta di Fanpage quella non è un'inchiesta loro hanno è un agente provocatore che ha cercato di indurre fidanza a commettere un reato secondo me vorrei vedere i rapporti fra l'agente provocatore che peraltro è un ex giornalista di Libero e Ionghi Lavarini perché secondo me c'è un rapporto pregresso comunque detto questo questi in genere non lo fanno i giornalisti perché i giornalisti documentano le cose non cercano di provocare reati non istigano a delinquere comunque il reato non c'è stato perché non c'è stato il finanziamento l'inchiesta non è per il momento che si sappia per il fascismo ma è solo per questo finanziamento illettito che non c'è stato perché non c'è stata la dazione come dice anche lo stesso giornalista che poi si è ritirato perché quando Fidanza l'ha ricevuto in ufficio ha detto facciamo le cose per bene fai il bonifico qui eccetera eccetera lui ha detto ah no perché rappresento delle aziende che non vogliono essere avvicinate a Fratelli d'Italia quindi se non c'è stata d'azione non capisco come possa essere di Milano no volevo rispondere alla tua domanda però perché qui c'è una questione politica che ci porta anche fuori dal tema del fascismo cioè se la destra italiana riesce a produrre una classe dirigente in grado di candidarsi al governo del paese e questo è un tema anche politico che ci propone anche il turno elettorale e le amministrative perché quando io vedo a Milano che il partito democratico ha preso il 34% e la Lega Forza Italia che sono nati lì più Fratelli d'Italia che ha avuto anche un buon risultato ma tutti insieme fanno il 27% a Milano vuol dire che c'è un problema di classe dirigente e allora tutti questi personaggi che girano non solo andrebbero tenuti lontani per motivi etici e storici ma io se potessi dare un sommesso consiglio direi ma per motivi politici perché ognuno questi personaggi non mi risulta che quel personaggio popolissimo che abbiamo visto sia stato candidato al sindaco di Milano secondariamente voglio ricordare che la metà degli elettori italiani non si sono recati alle urne questo mi pare un dato abbastanza significativo e sconfortante noi abbiamo cercato dei candidati civici perché abbiamo ritenuto di voler dare un'offerta inclusiva agli elettori quindi non troppo strutturata troppo identitaria ma aperta al contributo dei professionisti del cedomedio della società civile questa si può criticare o meno ma non è che addirittura questo può diventare un elemento che mette in discussione l'insistenza della nostra classe dirigente la classe dirigente ha la classe dirigente degna di candidarsi a guidare questo paese sicuramente ce l'ha subito dal partito democratico non c'è proprio ombra di dubbio ma qui siamo del partito democratico molto romano lei sta per spesso in parlamento ascolta gli interventi di tutti i parlamentari quindi sa perfettamente che le cose che dico non sono campate per aria Michela Marzano dacci un flash noi la nostra dirigente ce l'abbiamo e la nostra dirigente è ben su Michela Marzano con un flash un titolo perché tanto lei rimane con noi e di questo continuiamo a parlare allora un titolo forse potremmo restare in tema perché non c'è nessuno che risponda alle domande se mi posso permettere questa mozione d'ordine perché quando vengono fatte questioni su Morisi si risponde sul Green Pass si fa domande ma allora il rappresentante del Parlamento Europeo della Lega che fa il saluto fascista ma si è avuto sospeso era semplicemente una mozione d'ordine da chi esterna per fortuna alla politica abboglia che i politici rispondano nel merito perché poi le cose rimangano guardate cosa diceva Salvini come scatenava la bestia a Modena poco dopo il caso della citofonata a Bologna sempre durante la campagna elettorale per le regionali Salvini si fa indicare un negozio dove secondo gli abitanti del posto si spaccia chiediamo cortesemente a chi di dovere quindi alla procura di venire a fare un bel controllo in questo negozio perché stando a residenti commercianti mamme papà bambini figli e sorelle qua dentro si spaccia droga e chi spaccia droga deve stare in galera non a passeggio per Modena e poi si scoprirà che il negozio è gestito da italiani non da nigeriani i proprietari sono rivolti a un legale e diciamo adesso la questione è ancora aperta Caprarica dacci un flash prego penso che la coerenza sia un valore un partito che ha fatto della campagna e della caccia ai diversi ai drogati agli immigrati a tutti coloro che in qualche modo non rientravano nello schema prefissato della Lega che ha fatto di questa caccia i suoi valori fondanti di tutte le campagne elettorali di questi anni dovrebbe per coerenza chiedere quantomeno scusa non limitarsi ad allontanare la persona che è stata la protagonista dello scandalo ma riconoscere che quello scandalo comporta un ripensamento di tutte le montagne di accuse false infondate lanciate in questo periodo dicevano i latini conviene che gli scandali esplodano grazie piccola pausa benvenuta Barbara Gallavotti autrice di Superquark consigliere museo della scienza e tecnologia di Milano bentornata dottoressa grazie buonasera a tutti allora dottoressa ora parleremo naturalmente come facciamo da due anni di covid però prima userei la sua competenza per chiarire un altro elemento venuto alla luce in settimana in relazione alla vicenda di Morisi abbiamo sentito parlare della cosiddetta droga dello stupro e ne sentiamo parlare sempre di più ci spiega cos'è come agisce come ci si può difendere allora di base si tratta di una molecola nota con la sigla GHB vuol dire gamma idrossibutirrato è una molecola semplice la potete vedere schematizzata in animazione come al solito gli atomi sono rappresentati come palline le palline rosse sono atomi di carbonio quelle blu atomi di ossigeno e quelle grigie atomi di idrogeno dunque appartiene alla categoria dei sedativi e viene usata per motivi medici per trattare per esempio una condizione rara molto abbastanza grave che si chiama narcolessia e che porta a perdite improvvise incontrollate di conoscenza ma ovviamente una cosa è utilizzarla in ambito medico in dosaggi controllati ben altro e quando viene usata come stupefacente in questo caso è ricercata perché causa ridassamento perdita delle inibizioni una leggera euforia e ha la caratteristica che molto spesso le persone che l'hanno assunta non si ricordano quello che hanno fatto quando erano sotto i suoi effetti da qui il nome sinistro di droga dello stupro perché rende facili vittime coloro che la assumano ha un sapore quindi un sapore sgradevole sembra che sia un po' salata un po' saponosa quindi viene spesso disciolta in delle bevande e qualcuno ha la pessima idea di scioglierla in bevande alcoliche perché in quel caso gli effetti dell'alcol si sommano a quelli della droga rendendola ancora più pericolosa comunque già da sola può causare nausea mancamenti crisi epilettiche coma nei casi più gravi si arriva fino alla morte ed è diventata in qualche modo famosa al grande pubblico nel 1996 quando è morta una ragazza americana una sedicenne che era una bravissima studentessa una bravissima sportiva e però è morta dopo aver assunto due bevande contaminate con questa sostanza e nessuno ha mai capito neanche se lei era consapevole che quelle bevande la contenessero quindi per difendersi come da tutte le sostanze stupefacenti il modo è sempre quello evitare in tutti i modi di assumerlo e se la si assume ci si sente male o ci si sente male dopo aver preso una bibita che qualcuno potrebbe aver manipolato allora bisogna chiedere aiuto perché contro questa sostanza non c'è un antidoto ma comunque in ambito medico si può essere aiutati se sopravviene ad esempio una crisi respiratoria si è capito che effetti ha sul cervello? non del tutto perché il cervello è un organo molto complicato quello che si è capito è che questa sostanza viene prodotta anche naturalmente in piccola quantità dalle nostre cellule ed è una delle molecole che le cellule del cervello utilizzano per comunicare fra di loro è un cosiddetto neurotrasmettitore ora di norma i neurotrasmettitori presi per bocca non arrivano al cervello ma questo purtroppo lo fa e dobbiamo immaginare che normalmente nel nostro cervello le cellule comunicano in modo ordinato un po' come è rappresentato nell'animazione che potete vedere quando si assume uno stupefacente questa comunicazione diventa estremamente disordinata dovete immaginare che è un po' come si passi da un segnale radio pulito ben intellegibile chiaro a una somma di frequenze che fanno un terribile rumore e non si capisce più nulla e non è chiaro quali non è neanche molto prevedibile quali effetti possa avere questo sul cervello e neanche quali zone del cervello siano veramente coinvolte da questo stupefacente sembra che non ci sia dubbio che è coinvolta fra l'altro l'area della corteccia cerebrale che è quella che usiamo per il pensiero razionale allora dottoressa sempre prima di arrivare ai temi del covid le chiederei di spiegarci di darci una chiave di lettura di un altro tema di questi giorni il tema ambientale allora l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha cambiato i parametri in base ai quali l'aria viene considerata pura, respinabile o inquinata di che si tratta? è per noi un vantaggio o uno svantaggio? beh, può essere un enorme vantaggio perché respirare aria inquinata sembra che sia qualcosa responsabile addirittura di 7 milioni di morti premature che si verificherebbero in tutto il pianeta ogni anno e i danni si vedono da subito nei bambini e respirare aria inquinata può causare un rallentamento nello sviluppo dei polmoni oppure una maggiore sensibilità alle malattie respiratorie o ancora allergie negli adulti respirare aria inquinata è connessa con la possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari ma anche diabete e secondo alcuni addirittura malattie neurodegenerative e non è solo una tragedia umana è anche un enorme costo per la società perché dobbiamo pensare che tutto questo si riflette in spese mediche gigantesche e anche nell'impossibilità di molte persone di poter contribuire al benessere della società con il proprio lavoro e tutto si può diciamo monetizzare in perdite che vanno nell'ordine di migliaia di miliardi quindi è veramente un dramma umano ma anche sociale gigantesco e allora che provvedimento ha preso l'OMS dottoressa cosa significa concretamente avere abbassati i parametri dell'inquinamento beh allora l'OMS ha preso in considerazione diversi inquinanti il diossido di azoto il diossido di zolfo l'ossido di carbonio le polveri sottili e anche l'ozono che è un gas che ha un ruolo fondamentale per la nostra sopravvivenza se si trova in alta atmosfera se lo respiriamo alla nostra quota può essere molto dannoso e studiando centinaia di pubblicazioni scientifiche ha deciso di ridurre quella che è la soglia massima la concentrazione massima di queste sostanze è considerata accettabile nell'aria rispetto ai parametri che erano stati posti nel 2005 in buona sostanza ha agito soprattutto sulle polveri sottili quelle più fini con un diametro inferiore a 2,5 millesimi di millimetro riducendo la concentrazione considerata accettabile di metà rispetto al 2005 e sull'ossido di ossido di azoto riducendo la sua concentrazione addirittura di un quarto e se queste misure fossero effettivamente applicate se queste linee guida fossero accolte beh gli effetti potrebbero essere veramente tangibili si stima che solo la riduzione delle polveri sottili potrebbe risparmiare oltre 3 milioni di decessi all'anno in tutto il mondo questo vale anche per l'Italia quindi? assolutamente sì perché secondo i dati del 2018 in Italia i decessi per le polveri sottili potrebbero essere oltre 50 mila l'anno e quelli dovuti all'inquinamento di diossido di azoto oltre 10 mila e se vi ricordate quando il covid ha cominciato a fare strage in Italia in particolare nel nord si è subito pensato che a rendere più letale il virus potesse essere il fatto che molte persone potevano avere le vie respiratorie indebolite proprio a causa dell'inquinamento però le raccomandazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità hanno sempre il limite di essere solo raccomandazioni per diventare effettive devono essere recepite dai paesi e intervenire per migliorare la qualità della nostra area vuol dire intervenire sulle industrie sull'agricoltura sugli impianti domestici sul traffico e può sembrare difficile però alla fine sono le stesse cose che bisogna fare per riuscire a contenere i cambiamenti climatici che è la grande emergenza e se mi permette vorrei dire che l'ha messo bene in luce il Nobel per la fisica di quest'anno il Nobel per la fisica di quest'anno è stato assegnato a Giorgio Parisi il fisico italiano che in qualche modo ha ricevuto un riconoscimento che si aspettava da tempo che gli fosse assegnato e anche un riconoscimento alla fisica italiana che si era vista scippare troppe volte il Nobel ma assieme a lui l'hanno ricevuto due fisici che hanno dato un contributo fondamentale nel definire una volta per tutte che i cambiamenti climatici sono dovuti all'azione dell'uomo questo non è più un tema di discussione nella comunità scientifica la comunità scientifica non ha più dubbio nel suo insieme che le cose siano così e quindi che in qualche modo l'uomo possa anche porre rimedio a quello che è accaduto il professor Parisi sarà ospite subito dopo di lei qui di martedì dottoressa e questi temi sono poi quelli di cui si è parlato in questi giorni a Milano tra poche settimane 200 capi di Stato si riuniranno per parlare di questi temi ma è un problema ancora risolvibile ormai ha raggiunto dimensioni talmente vaste da non poter essere più fermato sicuramente risolvibile se si fanno le cose giuste io devo dire che una settimana fa ero proprio a Milano e ho potuto ascoltare quello che ha detto l'attivista Greta Thunberry come sembra che si pronunci il suo nome in svedese nel suo discorso sono rimasta un po' stupita del fatto che tutti i media hanno ripreso con molta attenzione la parte in cui lei accusava i politici di fare solo bla 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 e di non fare azioni che obiettivamente era la parte più coinvolgente e emotiva ma io sono rimasta più interessata a quello che lei ha detto all'inizio perché lei ha esordito dicendo voi cosa pensate quando dico cambiamenti climatici allora dovete pensare che aveva appena parlato l'attivista africana Vanessa Nacatè descrivendo il disastro dei cambiamenti climatici e dei loro effetti in Africa quindi erano tutti molto commossi molto scossi ma Greta invece ha detto io quando sento parlare di cambiamenti climatici penso posti di lavoro e credo che sia proprio questo lo spirito che dovremmo avere perché affrontare il riscaldamento globale vuol dire fare grandi cambiamenti vuol dire fare grandi investimenti e quindi anche alla fine grandi opportunità soprattutto perché spaventa l'alternativa che sembrerebbe essere un lento procedere verso l'estinzione così neanche tanto lento in realtà c'è un altro studio molto interessante che è appena uscito è stato fatto da ricercatori americani che hanno stimato l'entità delle ondate di calore in qualcosa tipo 13.000 città in tutto il mondo arrivando alla conclusione che dagli anni 80 a oggi le giornate in cui il caldo l'umidità raggiungono livelli tali da mettere in pericolo della vita delle persone sarebbero triplicate e loro hanno fatto anche una mappatura delle zone del mondo dove questo cambiamento è stato più drastico la vedete non sorprende vedere i puntini rossi e gialli concentrarsi nelle zone del mondo che sappiamo già essere più sensibili più esposte alle ondate di calore l'Europa sembra un po' fuori pericolo ma molto vicina a diverse zone gialle e rosse e ricordiamoci che nel 2003 l'ondata di calore in Francia un'ondata di calore molto famosa in Francia fece 14.000 vittime proprio per far affronte a questa emergenza molte nazioni si stanno attrezzando in modo da creare dei rifugi freschi dove far ricoverare le persone fragili in particolare le persone anziane casomai si verificassero ancora cose di questo tipo ma significa ancora una volta giocare in difesa così come siamo stati costretti a giocare in difesa contro il virus mentre dovremmo cominciare a giocare in attacco e prevenire i problemi e in questa chiave qual è l'obiettivo numero uno? l'obiettivo numero uno è mantenere il riscaldamento della superficie del pianeta entro massimo un grado e mezzo più delle temperature medie che si registravano prima della rivoluzione industriale quindi a metà del 1800 e non stiamo andando benissimo perché abbiamo già superato un grado rispetto alle temperature di quel tempo però gli esperti ritengono che sia un obiettivo raggiungibile se entro il 2050 riusciremo a arrivare alla cosiddette emissioni zero neutralità carbonica allora funziona così adesso siamo in una situazione in cui le nostre attività portano all'immissione in atmosfera di grandi quantità di gas serra quantità superiori a quelle che possono essere assorbite dai polmoni naturali del pianeta per esempio dalle foreste e questo fa sì che la quantità di gas serra in atmosfera diventi sempre più alta l'obiettivo è da un lato diminuire le emissioni di gas serra dall'altro aumentare magari le foreste e quindi le zone del pianeta che possono assorbire gas serra in modo che la quantità di gas immessi nell'atmosfera dalle nostre attività sia uguale a quella assorbita dai polmoni naturali del pianeta e la quantità totale di gas serra in atmosfera non continui ad aumentare sono poi allo studio delle strategie molto innovative molto sofisticate che mirano addirittura a sottrarre attivamente in particolare anidride carbonica quindi gas serra dall'atmosfera ma presentano ancora diversi problemi non è neanche del tutto chiaro cosa si potrebbe fare di questa anidride carbonica una volta che l'abbiamo presa dall'atmosfera quindi è molto improbabile che siano queste che ci aiuteranno a arrivare agli obiettivi che dobbiamo raggiungere per il 2050 Senta lei ha detto prima l'ozono per noi è un gas tossico poi però perché allora ci preoccupiamo del buco nell'ozono è troppo ozono o troppo poco ozono dipende dov'è allora noi non dobbiamo essere nelle condizioni di respirare ozono ma è fondamentale che ci sia uno strato di ozono in alta atmosfera tra i 15 e i 35 chilometri di quota perché quello strato di ozono fa una specie di guscio che assorbe le radiazioni solari più nocive quei raggi che se arrivassero a terra causerebbero potrebbero causare un danno al DNA degli organismi viventi funziona proprio come vedete in grafica la radiazione ultravioletta dannosa emessa dal sole rompe la molecola di DNA la distorce e la rende sostanzialmente illegibile allora di fronte a questo danno la cellula cerca di porre rimedio ripara il DNA ma riparandolo può fare degli errori la copia riparata può non essere identica a quella originale e se proprio quel pezzettino conteneva qualche informazione fondamentale ad esempio un'informazione che la cellula doveva usare per evitare il rischio di diventare una cellula tumorale allora ci possono essere gravi conseguenze per la salute e in effetti questo è il meccanismo di base che può portare a sviluppare tumori in conseguenza di un'eccessiva esposizione al sole e in questo momento mi pare capire che lo strato di ozono non è in ottima salute diciamo in realtà ha visto tempi peggiori è negli anni 80 che ci si è accorti che questo guscio protettivo si stava sottigliando in maniera preoccupante addirittura in corrispondenza dell'emisfero sud era diventato così compromesso che si è parlato forse qualcuno lo ricorderà e molti lo ricorderanno di buco nell'ozono e si è scoperto che questo danno allo strato di ozono era dovuto al fatto che venivano usati dei particolari gas si chiamavano cloro fluoro carburi si chiamano negli impianti refrigeranti e negli spray allora di fronte all'emergenza le nazioni sono riuscite a mettersi d'accordo per una volta nel 1987 è stato ratificato l'accordo di Montreal che ha messo al bando questi gas e in conseguenza di questa decisione il danno all'ozono ha cominciato a ripararsi e si stima che possa essere completamente riparato entro il 2060 ma c'è un problema perché questo danno non appare ugualmente evidente tutti gli anni e in tutte le stagioni diventa più evidente quando è la stagione in cui i raggi solari sono più presenti sono più costanti quindi nella stagione estiva in particolare nell'emisfero sud del mondo e anche quando le annate sono troppo calde quindi succedono delle cose strane perché il fenomeno è complesso nel 2019 il danno all'ozono si è presentato con la minima estensione da molto tempo a questa parte quest'anno come dimostra l'immagine dell'Agenzia Spaziale Europea purtroppo si sta già presentando nell'emisfero sud con un'estensione davvero molto grande il timore è che la successione di annate molto calde dovute ai cambiamenti climatici possa agire rallentando la perfetta riparazione del danno all'ozono che non potrebbe quindi più avvenire entro il 2060 e c'è anche lo sospetto che in certe zone del mondo si continuino a usare quei gas almeno in parte che erano stati proibiti Allora dottoressa avviciniamoci ai temi nostri più tradizionali parliamo di mascherine lei mi diceva che hanno una sorta di data di nascita il 1910 in Manciuria è vero se si escludono quelle maschere a becco che erano tipiche dei medici della peste e che avevano comunque anche loro la funzione di mascherine perché erano riempite di erbe e l'illusione che potessero in qualche modo filtrare e purificare l'aria ma in Manciuria nel 1910 vengono inventate delle mascherine che assomigliano a quelle moderne allora succede perché scoppia una terribile epidemia di peste farà 60.000 vittime ma la Manciuria che è una zona nel nord-est della Cina in quel periodo storico è al centro delle mire addirittura di tre imperi quello russo quello cinese e quello giapponese e poi ci sono gli interessi di molte nazioni europee che hanno lì le loro delegazioni quindi non si risparmiano gli sforzi per fermare l'epidemia si era capito da qualche tempo a quella parte da qualche tempo prima che un veicolo di trasmissione importantissimo della peste è dato dalle pulci che tipicamente pungono un animale infetto che di solito ha un topo e poi trasmettono il batterio all'uomo e quindi si cercava di agire per contenere l'epidemia da quel fronte ma un medico si chiamava dottor V ha un'intuizione capisce qualcosa capisce che quella specifica epidemia di peste si sta svolgendo con modalità diverse è un'epidemia di peste polmonare che è più rara e si trasmette anche per via aerea un po' come il covid e quindi inventa queste mascherine sono due strati di garza in mezzo al quale c'è uno strato di ovatta e cerca di farlo indossare praticamente più persone possibili malati personale che assiste ai malati persone vicine ai malati personale che organizza le sepolture se guardiamo le foto dell'epoca purtroppo ci riescono molto familiari non tutto è facile perché il dottor V incontra una certa opposizione i colleghi fanno fatica a convincersi che l'epidemia di peste si trasmetta per via respiratoria ma ha ragione lui riesce a contenere l'epidemia e forse gli dobbiamo qualcosa anche noi allora gli dobbiamo qualcosa anche noi perché funzionano le mascherine invece così non si può dire di altre speranze che sono in qualche modo si sono dissolte come l'ivermectina allora è veramente inutile come sembra di capire e come si è capito che era inutile è inutile dannosa direi è una vicenda che è stata ricostruita su Nature Communication in un commento molto molto critico allora tutto parte nel 2020 quando in Egitto un gruppo di ricercatori prova a utilizzare questo farmaco che è un farmaco usato per le infezioni di certi vermi oppure contro la scabbia su 400 persone che erano state infettate dal covid e 200 persone loro vicine e ha l'impressione di notare un effetto molto benefico del farmaco allora scrive un articolo e come al solito come normalmente si fa lo sottopone a quella specie di controllo qualità che è la lettura di colleghi esperti che devono dire se quello studio è stato condotto correttamente intanto che aspettano la risposta come spesso si fa rendono pubblico questo studio su un sito internet allora siamo nel 2020 c'è un disperato bisogno di notizie su qualcosa che possa aiutare a contrastare il covid anche se quello studio è ancora provvisorio non pubblicato qualcuno lo prende in esame mette insieme i suoi risultati con quelli di altri studi altrettanto ancora traballanti e sembra concludere che il farmaco ha una qualche utilità nel frattempo avviene il famoso controllo qualità di cui parlavo prima che non viene superato e quello studio viene ritirato ma ormai la notizia ha cominciato a diffondersi qualcuno purtroppo la prende sul serio e si generano delle illusioni ci sono stati addirittura dei casi di intossicazione da Ivermectina giusto? si molto seri anche di morte in realtà perché quello che succede è che soprattutto negli Stati Uniti le persone disperate per cercare di affrontare il covid cominciano ad autoprescriversi questo farmaco che non si doveva autoprescrivere perché ovviamente ha comunque degli effetti collaterali e potrebbe ancora andare bene finché anzi no diciamo i danni potrebbero essere contenuti finché le persone assumevano il farmaco nella formulazione per uso umano ma siccome quella va presto esaurita le persone cominciano a autoprescriversi il farmaco a scopo veterinario quello destinato sono mucche e cavalli che come è facile capire aveva delle dosi di cavallo e quindi si moltiplicano i casi di intossicazione e anche purtroppo ci sono alcuni decessi possibili sospetti al punto che le autorità sanitarie americane pubblicano un tweet che credo che passerà alla storia dice non sei un cavallo non sei una mucca sul serio smettila e io credo che quando tutto questo sarà finito dovremmo chiederci come è possibile che delle persone siano arrivate a rifiutare dei farmaci per essere umani sicuri e efficaci contro il covid come i vaccini ma magari non abbiano esitato a prendere un farmaco per cavalli che nessuno aveva mai stabilito essere utile contro il covid ma esistono dei farmaci veri che possono funzionare contro il covid? beh diciamo la famosa pallottola d'argento che potrebbe facilmente farci uscire dalle infezioni non è stata ancora ufficialmente indicata ma ci sono diverse candidate pallottole di una si sta molto parlando in questo periodo perché è un antivirale molto interessante ha dato degli ottimi risultati nella sperimentazione e potrebbe essere assunto in forma di normali pillole e quindi sarebbe perfetto per una terapia da condurre anche a casa mentre gli anticorpi monoclonali ad esempio richiedono di essere somministrati in ambiente ospedaliero dunque si tratta quindi di un farmaco antivirale che interferisce con la formazione di tante copie del patrimonio genetico del virus se ci ricordiamo quando il virus infetta le nostre cellule cosa fa? utilizza i sistemi della cellula per produrre tante copie del suo patrimonio genetico del suo RNA che poi vengono incluse in altrettanti involucri esterni del virus così da formare dei virus perfettamente in grado di uscire dalla cellula infettata che in genere appunto muore in seguito della formazione di troppi virus al suo interno e andare a invadere altre cellule o addirittura uscire dall'organismo e infettare altre persone questo farmaco ha la capacità di entrare nelle cellule e di spacciarsi per una componente dell'RNA del virus può entrare solo nella composizione dell'RNA del virus non dei nostri RNA quindi non dovrebbe avere effetti negativi sulle nostre cellule cosa succede? che nella confezionamento di nuovi virus queste parti fasulle che vedete disegnate in nero vengono inglobate nell'RNA virale ma così disturbano l'informazione diventa totalmente inutilizzabile e il virus che viene confezionato con questo RNA al proprio interno non può fare nessun danno sembra molto complicato ma dovete pensare che come se su una scatola di bombe a mano qualcuno manipolasse le istruzioni e per esempio al posto di lancia scrivesse mangia oppure pancia rendendo del tutto incomprensibili le istruzioni e quindi inutilizzabili quegli specifici ordigni la sperimentazione come dicevo sta andando molto bene e quindi ci sono davvero grandi speranze che questo possa diventare un farmaco utile dottoressa una cosa ci ha insegnato il covid di una cosa siamo sicuri che per risolvere un problema planetario bisogna saper collaborare è una cosa che abbiamo imparato a fare è una cosa non facile da fare lo sappiamo benissimo e c'è uno studio appena uscito da parte dei ricercatori del CNR dell'università di Torino che hanno messo a punto uno di quegli esperimenti per capire come le persone interagiscono che si basa su una specie di gioco di ruolo allora hanno preso un buon numero di partecipanti e hanno dato a ciascuno una sorta di dote in denaro avvisando però che dovevano devolverne una quota a un fondo comune diciamo di emergenza se il fondo comune fosse riuscito a raggiungere grazie ai contributi di tutti un valore minimo beh allora ciascuno avrebbe potuto tenere quanto gli restava altrimenti tutti avrebbero perso tutto e beh non è sorprendente il fatto che quando i ricercatori hanno instillato nei gruppi di giocatori delle regole sociali cioè delle regole che li spingevano a doversi comportare correttamente verso gli altri poi la possibilità di uscire vincitori da questo gioco è cresciuta notevolmente e d'altra parte l'abbiamo visto anche con il covid se la prima ondata si è riuscita in qualche modo a contenere e si è riuscita ad arrivare a un abbassamento dei casi con un grosso abbassamento dei casi alle soglie dell'estate è stato perché tutti in qualche modo abbiamo cercato di seguire al meglio le regole ma ci aspettavamo anche che gli altri le seguissero si era stabilita una specie di accordo sociale che ci spingeva ad andare tutti nella stessa direzione grazie Barbara Gallavotti benvenuto Giorgio Parisi premio Nobel per la fisica professore innanzitutto di nuovo congratulazioni grazie allora professore se l'aspettava il premio Nobel per gli italiani è una notizia sensazionale che dà gioia se l'aspettava ma qualche piccolo pensierino ce l'avevo fatto in quanto avevo già ricevuto il premio Wolf che molto spesso è l'anticamera del premio Nobel quindi stamattina i telefoni di casa li avevo messi vicini alla scrivania dove lavoravo come si aspetta la notizia di aver vinto un Nobel cosa pensava? beh la prima cosa ho visto che è un numero svedese poi a un certo punto ho detto speriamo che non stiano facendo uno scherzo però dopo un po' sembrano veramente convinti di quello che dicevano quindi che poi mi avevano dato tutta una serie di istruzioni ben dettagliate poi ho parlato anche con un amico mio e quindi allora ha confermato dice ma è vera questa cosa senta professore allora nel premio nelle motivazioni del premio si legge che le sue ricerche hanno riguardato la scoperta dell'interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici della scala atomica a quella planetaria e ci può spiegare di che si tratta come se lo facesse un bambino? guardi il problema è che se lei piglia tanti cubi e li mette dentro una scatola li può mettere dentro questa scatola in maniera completamente ordinata se lei prende invece prende dei cubi prende delle sfere che hanno tutte la dimensione diversa non è che stanno in maniera ordinata stanno in una maniera disordinata e io ho studiato problemi di questo genere dove le cose sono molto differenti sono tutta una serie di proprietà importanti che dipendono dal fatto che c'è il disordine perché le sfere le può mettere in maniera bene compatta in tanti modi diversi mentre i cubi per mettere i compatti li può mettere in un modo solo quindi lei ha una chiave di lettura del disordine sì c'è tutta una serie di una chiave di lettura o almeno di certe conseguenze del disordine di come queste poi abbiano effetti di tutti i tipi professore quando si vince il Nobel chi ti chiama per farti complimenti chi l'ha chiamato guardi mi hanno chiamato 200 persone ai quali non ho potuto rispondere perché ero occupato a fare interviste solo con quelli che mi passava la mia detastampa quindi mi ha chiamato Mattarella certamente mi ha chiamato Mattarella e per caso ho risposto anche là avrà trovato il numero avrà capito che non era dalla Svezia senta professore ho visto il numero del centralino inquirinale che conosco e quindi ha capito tutto senta è un momento in cui diciamo sembra girare la ruota noi abbiamo passato due anni terribili chiusi dentro casa domandandoci se potevamo ammalarci oppure chi degli altri delle persone vicine a noi ci poteva contagiare oppure piangendo qualche persona che era rimasta vittima della pandemia adesso sono dei mondi incommensurabili e mi scusi se li avvicino però ci sono il suo segnale il Nobel tante vittorie nello sport dell'Italia in qualche misura sente avverte un paese che si sta muovendo di nuovo che sta muovendosi in chiave positiva verso la luce beh io spero che la pandemia sia praticamente alle nostre spalle almeno una grande parte però questo è fondamentale che continuiamo a finire tutti i cicli di vaccinazione che le persone che non sono vaccinate si vaccinino e le persone a cui spetti la terza dose nel piano nazionale facciano la terza dose io per motivi miei sono nella lista di quelli che devono farle quindi ho già prenotato la terza dose quindi le vaccinazioni sono molto importanti perché proprio nel momento in cui avevamo più bisogno della scienza si è diffusa così tanta fiducia nella non scienza nell'irrazionalità ma io non credo che poi ci sia tantissima diffusione perché teniamo conto che per esempio nella fascia sopra gli 80 anni si sono vaccinate il 95% delle persone abbiamo l'83 l'84% delle persone che si sono vaccinate quelle dei soggetti a campagna e poi secondo me erremo tranquillamente al 90% certo siamo lontani dal Portogallo che hanno vaccinato il 98% però andiamo abbastanza bene certo infinitamente meglio degli Stati Uniti grazie professor Parisi di nuovo complimenti per noi una piccola pausa bentornata a Lily Gruber 8 e mezzo la 7 inutile presentarla ma è bene presentare il suo libro con la guerra dentro edito da Rizzoli allora libro che ripercorre i momenti decisivi della carriera di Malta Gellorn giornalista scrittrice una delle più grandi corrispondenti di guerra del novecento ci dici di chi si tratta e perché hai scritto un libro su di lei Lily allora intanto Martha Gellhorn è stata in assoluto la più grande inviata di guerra del novecento poi la sua vita avventurosa è una storia come un romanzo una storia straordinaria che vale la pena raccontare vale la pena conoscere poi Martha Gellhorn è stata la terza moglie di Ernst Hemingway quindi il gigante della letteratura americana la terza delle quattro è l'unica che ha mandato Hemingway a quel paese questo vi dice già il caratterino di Martha Gellhorn e poi perché questa donna è un inno alla sua vita un inno al potere della tenacia della testardaggine delle donne un esempio per me anche come giornalista ma un esempio anche come donna anche per le giovani donne di oggi allora intanto perché e come ha mandato a quel paese Hemingway e perché è importante leggere la sua vicenda professionale umana in qualche misura anche in parallelo a quella di Hemingway allora Hemingway è stato un grandissimo romanziere e Martha Gellhorn una grandissima inviata di guerra una grandissima giornalista quindi intanto fiction e informazione non vanno tanto d'accordo lei era molto più brava di lui nel fare l'inviato e questo lo dobbiamo però tenere presente sempre anche noi che noi facciamo i giornalisti e non bisogna raccontare delle storielle bisogna raccontare i fatti cosa che lei faceva sempre con grande accuratezza Hemingway e Gellhorn sono state due personalità appassionate e due personalità fortissime quindi è evidente che a un certo punto si sono anche scontrati lui ha voluto fare le scarpe come inviato nel D-Day lo sbarco in Normandia nel 44 e cosa è successo che lei è riuscita lo stesso ad andare lui era accreditato lei no lei si è intrufolata su una nave ospedale e lei è scesa sulla spiaggia della Normandia e lui non è mai riuscito a scendere durante il D-Day tra l'altro lei si è intrufolata nella nave dicendo ma racconterò cose da donne parlerò di infermiere è vero? beh no in realtà nel frattempo era già diventata una grande reporter di guerra perché aveva già raccoperto la guerra civile di Spagna nel 37 e nel 38 e poi i fronti il fronte finlandese della seconda guerra mondiale il fronte italiano della stessa guerra quindi era diventata anche una grande esperta di strategie militari di armamenti quindi raccontava sì della nave ospedale del lavoro delle infermiere lei stessa si è ritrovata a fare diciamo la croce rossina ma contestualmente ci ha raccontato che cosa era questa seconda guerra mondiale non solo dal punto di vista delle infermiere doveva mascherarsi intendo doveva mascherarsi da narratrice femminile pur di raccontare la guerra o già all'epoca le si permetteva di fare il lavoro che sembrava fatta apposta per un uomo e per un uomo come Hemingway no allora all'epoca al fronte le donne non avevano il permesso di andare potevano andare appunto solo al seguito di un generale ma non sulla linea del fronte quindi lei si è dovuta in qualche modo travestire e lei ha quindi violato le regole tant'è che poi ha rischiato di essere sanzionata di essere espulsa subito ma è sempre riuscita a cavarsela perché è stata una donna veramente di un coraggio e anche di una intelligenza oltre che di una bravura professionale straordinaria e quindi è evidente che uno come Hemingway si innamorasse di lei ed è stato un grande amore molto travagliato poi finito male quando lei ha deciso di lasciarlo che lui naturalmente l'ha presa malissimo però diciamo che sono stati gli anni più importanti della loro vita per entrambi senti ti abbiamo visto da Fabio Fazio con tuo marito Giovanni ti volevo solo no Giovanni ti volevo solo dire tanto per dirti il matrimonio Martha Gailhorn Ernst Hemingway il viaggio di nozze sai dove l'hanno fatto? lo hanno fatto in Cina nel 41 che allora era in guerra con il Giappone perché eravamo già nella seconda guerra mondiale questo solo per dire diciamo che tipi fossero speciale che era questa coppia ecco che tipi fossero senti ti abbiamo visto da Fabio Fazio con tuo marito ma c'è anche un'intervista a tuo marito nel libro in che misura fare lo stesso lavoro ha influenzato il vostro di lavoro beh da una parte ci ha unito molto e siamo stati sempre molto solidali devo dire mai in competizione anche perché per 30 anni Jacques ha fatto il corrispondente di guerra ha fatto veramente solo quello per 30 anni e è stato un giornalista di agenzia di una grande agenzia di stampa internazionale che è un lavoro dietro le quinte e io invece il contrario perché la televisione comunque richiedeva che io mostrassi il mio volto e quindi non eravamo in questo senso in competizione ci ha aiutato a noi ci ha aiutato senti tu scrivi che nel giornalismo oggi con poche eccezioni trionfa la semplificazione perché è un difetto la semplificazione la semplificazione è quando è una banalizzazione degli eventi e quando non mi fa capire il contesto in cui accade un evento è per i cittadini molto negativo perché non capiscono niente di quello che sta accadendo e oggi è chiaro che soprattutto con l'uso dei social ma anche con la televisione la iper semplificazione è un rischio permanente ma noi giornalisti dobbiamo avere sempre ben presente i doveri fondamentali che sono andare a vedere come ci insegna Marta Gellhorn sempre e comunque raccontare i fatti dopo che li abbiamo verificati e inserirli in un contesto in modo che chi ci ascolta chi ci vede chi ci legge capisca di cosa stiamo parlando ci sono due problemi riguardo all'andare a vedere il primo è che costa tanto e soldi ce ne sono sempre di meno il secondo che le immagini spesso arrivano direttamente al posto perché è importante invece tu spieghi stare là capire la mentalità del posto capire quello che sta succedendo e in che misura ti manca essere inviata di guerra beh insomma diciamo manca tutti noi che non abbiamo più 30 anni non avere più 30 anni da una parte dall'altra è chiaro che oggi farei l'inviata di guerra anche in modo diverso in fondo col mio lavoro tutte le sere a 8 e mezzo è un po' però lo stesso lavoro nel senso che cerco di raccontare un pezzetto di realtà e di verità nel modo più onesto e professionale possibile tutte le sere oggi le giovani generazioni hanno naturalmente molto meno possibilità di fare questo nostro lavoro perché anche le grandi testate investono poco nella formazione di giornalisti e giornalisti di guerra e poi non li mandano sul posto perché costa soldi ma noi continueremo ad avere come dovere primario quello di verificare quello che raccontiamo ai nostri utenti e quindi ci vorrà sempre qualcuno che va a vedere sul posto e verifica quello che ci viene detto e fa sì che non veniamo sommersi da una mole di informazioni che non sappiamo distinguere e in mezzo a questa mole di informazioni c'è tantissima propaganda tantissime fake news tantissime bugie menzogne senti abbiamo visto degli ospiti che stiamo andando a presentare per trattare un tema molto importante ti chiedo di anticiparlo in qualche modo la Guerlain sosteneva che la Germania non si fosse mai davvero confrontata con il nazismo dopo la guerra al contrario Lilli tu scrivi che vorresti che l'Italia avesse fatti conti con il fascismo con altrettanto impegno di quello dimostrato dai tedeschi ci spieghi questa differenza tra te e la protagonista del tuo libro allora per Marta Gellhorn che è stata una delle prime a entrare con gli alleati nel campo di concentramento di Dachau questa esperienza è stata decisiva ha sempre detto che la sua vita non sarà mai più non è mai più stata la stessa dopo aver visto un campo di concentramento lei non si fidava dei tedeschi pensava che non avessero fatto abbastanza i conti con l'olocausto e con la storia della seconda guerra mondiale io invece che conosco un po' il mondo di lingua tedesca la Germania devo dire che è un paese che ha fatto molta elaborazione del suo passato e lo ha fatto anche in modo accurato come sanno essere i tedeschi anche nel bene e in Italia e gli italiani col fascismo lo hanno fatto infinitamente di meno e un pochino lo vediamo anche nella in Germania non ci sono dubbi su una condanna netta per l'apologia di nazismo di fascismo in Italia abbiamo forse qualche volta un po' troppa tolleranza anche da parte di leader politici la guerra dentro il nuovo bellissimo libro di Lilli Gruber grazie Lilli grazie a voi grazie mille e torniamo dalla professoressa Ilaria Capua professoressa allora lei mi ha dato il via per la terza dose del vaccino Pfizer per gli over 18 Fauci in questi giorni ha detto a 15 giorni dalla terza dose la protezione è anche 44 volte più alta allora perché non la facciamo tutti questa terza dose perché bisogna cominciare dalle persone che ne hanno più bisogno che sono i fragili ma sono anche i medici perché i medici ammalati proprio non ci servono quindi sappiamo che il virus soprattutto in alcune persone può dare una forma clinica anche se sono vaccinate quindi ed è urgente proteggere le persone anche quelle che sono in prima linea noi facciamo una terza dose di un vaccino che è stato immaginato su un virus che ormai si è trasformato bisognerebbe aspettare come ci ha sempre spiegato lei gli aggiornamenti dei vaccini ma guardi ci sono gruppi di scienziati che studiano questo problema e studiano l'evoluzione virale a questo in questo momento evidentemente il vaccino che abbiamo funziona e lo stiamo vedendo cioè non c'è bisogno di fare voli pindarici bisogna vedere qual è la realtà dei fatti la realtà dei fatti è che nei paesi che stanno vaccinando e che hanno numeri alti la mortalità è crollata parlavamo del miracolo del vaccino questo vaccino ha avuto delle ramificazioni veramente miracolose è chiaro che i cicli di vaccinazione non sono di una dose spesso sono di due ma spesso sono anche di tre e quindi in questo caso siccome non ci dimentichiamo che il virus continua a circolare anche se si vede molto meno noi dobbiamo mettere lì tutti i nostri scudi gli scudi che abbiamo per proteggerci uno di questi è appunto la terza dose del vaccino appena aprono alla mia categoria io faccio la terza dose professoressa se il tempo diciamo passa arriva il momento del vaccino influenzale che in fondo lo facciamo ogni anno chi lo fa e viene in mente che i due possano essere messi insieme forse messi insieme direttamente dal medico non che ne facciamo uno dopo l'altro andrà a finire così ma allora io credo che questo sia un momento nel quale l'importanza della vaccinazione sia stato capito e quindi la vaccinazione per l'influenza è anche quella una vaccinazione importante e allora prendiamo la palla al balzo e facciamo in modo che la nostra popolazione soprattutto la popolazione over 65 sia vaccinata per l'influenza perché i numeri della vaccinazione della copertura sono migliorati un po' l'anno scorso ma l'Italia è uno dei paesi che vaccina meno per l'influenza e invece abbiamo visto che i vaccini funzionano e quindi già che ci si trova già che bisogna fare un vaccino ci si copre anche per l'influenza così almeno non ricoveriamo le persone per l'influenza e professoressa e visto che molti di voi scienziati molto del mondo che se ne intende parla ormai quasi di due pandemie una che riguarda i vaccinati e una che riguarda i non vaccinati questa seconda naturalmente molto più grave quanto deve preoccupare la comunità intera e quanto ormai non è solo una questione di chi non vuole o non può vaccinarsi ma allora bisogna diciamo non generalizzare in Europa vi è una popolazione di vaccinati alti e quello che succede nei non vaccinati diciamo dal punto di vista dell'evoluzione virale è abbastanza insomma risibile il vero problema dell'evoluzione virale cioè delle nuove varianti che arriveranno cioè non è che non arriveranno ma comunque troveranno i semafori rossi queste varianti sono le varianti che si generano nei paesi molto popolosi dove abbiamo una bassa copertura vaccinale e dove c'è una diciamo protezione ecco in India il virus di semafori rossi ne trova gran pochi professoressa la pillola anti covid ci spiega se è una svolta o non lo è come funziona e quanto sarà disponibile per tutti ma la pillola è un antiviral quindi è una è una sostanza che è in grado di agire contro il virus ma vorrei però riuscire a separare due concetti la pillola è diciamo uno strumento che si può usare quando le persone sono ammalate noi dobbiamo evitare che le persone si ammalino è un po' come la cintura di sicurezza o il casco noi ci mettiamo la cintura di sicurezza perché la cintura di sicurezza ci protegge se andiamo a sbattere ci facciamo male ma ci facciamo meno male noi dobbiamo metterci la cintura perché dobbiamo evitare appunto di ammalarci e quindi è molto più importante vaccinarsi piuttosto che usare degli interventi secondari che sono l'antivirale e il monoclonale anche i monoclonali sono dei prodotti che possono essere utilizzati ma questi si usano quando le persone già cominciano ad avere i primi sintomi quindi ha un'efficacia sì ma ha un'efficacia nel 50% dei casi non nel 100% dei casi il vaccino ha un'efficacia molto maggiore perché previene e quindi previene anche quei danni che noi non conosciamo perché non ci dimentichiamo che questo è comunque un virus che conosciamo soltanto da un anno e mezzo poco più di un anno e mezzo quindi stiamo ancora imparando ma credo che la scienza abbia dato assolutamente le risposte di cui abbiamo bisogno e possiamo finalmente riprenderci la nostra vita sempre meglio non ammalarsi che prendersi le medicine una volta che ci siamo malati grazie professoressa Capua grazie a voi benvenuta Valeria Golino buonasera benvenuta la conoscete tutti attrice regista italiana al cinema con la scuola cattolica tratta dall'omonimo libro di Edoardo Albinati con noi anche il regista del film Stefano Mordini buonasera benvenuta la conoscete tutti attrice regista italiana al cinema con la scuola cattolica tratta dall'omonimo libro di Edoardo Albinati con noi anche il regista del film Stefano Mordini buonasera benvenuto Lando Pagnoncelli presidente Ipsos bentornato e sempre con noi Michela Marzano scrittrice filosofa La Repubblica e La Stampa in libreria con Stirpe e Vergogna edito da Rizzoli e sempre con noi anche Antonio Caprarica giornalista scrittore e in libreria con Elisabetta per Sperling e Kuffer bentornato Caprarica allora Golino vediamo una clip del suo film così parliamo dell'argomento che tratta prego non saprei dire quando tutto è iniziato eppure quello che era successo riguardava tutti noi la nostra educazione il nostro quartiere la nostra scuola bisognava provare continuamente di essere veri uomini e una volta dimostrato ricominciare da zero per dimostrarlo una volta ancora per subire il male non ci permette mai più ci sarà pur bisogno di qualcuno che lo commenta ciao ciao e Carlo? se vogliamo possiamo raggiungerlo alla sua villa quale villa? apriteci apriteci allora il delitto del Circeo 1975 ha segnato il paese sicuramente una generazione quali sono i tratti che escono nel suo film perché ne avete fatto un film? il film come saprà è tratto dal libro di Edoardo Albinati premio strega che si chiama la scuola cattolica e racconta in qualche modo tutto quello che viene prima del fatto racconta un quartiere una generazione dei genitori dei figli delle famiglie una scuola un millier un ambiente un pensiero un millier abbiente di persone borghesi e ti porta piano piano anche in maniera quasi a volte subliminale a volte in maniera molto diretta a quello che poi succederà in quelli famosi non so 24 ore erano come se ci fosse un pensiero che in qualche mese si misura determina un'azione o no o no nel senso che la scelta di fare una cosa o di non farla ce l'hai sempre le stesse persone che vivono nella stessa famiglia con la stessa educazione possono essere in un modo o in un altro noi non siamo solo quello che ci insegnano i nostri genitori o anche la scuola siamo anche una natura come come percepiamo noi stessi e gli altri e quindi il film penso che Stefano ma anche Edoardo parlassero anche di questa scelta cioè se andare verso il male o verso il bene partendo dallo stesso ambiente così Mordini esattamente così infatti c'è un parallelismo nel film ragazzi cresciuti nella stessa scuola nello stesso ambiente con famiglie simili in realtà si dirigono nel film a un certo punto al cericeo una coppia di ragazzi con due ragazze e una coppia di ragazzi con altre due ragazze due di questi ragazzi facendo parte della scuola tornano a casa senza né violentare né tantomeno approfittarsi delle ragazze altri invece che sono Angelo Izzo e Gianni Guido poi raggiunti da Ghiradop commettono quello che ha segnato il paese da sempre sono da 75 ad oggi allora Antonio Caprarica la scuola cattolica questo splendido libro di Albinati che ora diventa un film che vedremo fa già discutere ancora prima di essere uscito perché è stato vietato ai 18 anni cosa che l'ha fatta arrabbiare moltissimo ma ne parleremo Caprarica è la scuola frequentata dai figli della Roma Bene Ghira Izzo e Guido un delitto che ha segnato l'Italia non solo per l'efferatezza dell'atto ma anche per l'atteggiamento amorale dei colpevoli ma vedi io in quegli anni ero un giovanissimo cronista di uno dei grandi giornali di Roma l'Unità quel delitto l'ho seguito passo dopo passo mi occupavo del lato politico della faccenda quello è un delitto del cuore nero di Roma io ho seguito con interesse ciò che dicevano Golino e Mordini certo c'è il libero arbitrio c'è sempre il libero arbitrio ma non c'è dubbio che se mai il delitto fu partorito in un ambiente in un clima culturale in un'idea di mondo che era quella che dominava il cuore nero di Roma una Roma che a 30 anni dalla fine della guerra aveva ancora un ceto dominante politico e sociale fortemente impregnato di fascismo e di impunità beh quello fu il deritto del cerceo e quindi è vero la moralità di cui parla lei Floris ma quella amoralità era veramente il segno di un paese che non aveva voluto fare i conti col suo passato che se lo ritrovava in quel momento sbattuto davanti nello specchio con tutti i segni dell'orrore perché l'Italia di quegli anni ancora non aveva fatto i conti fini in fondo con il male assoluto del fascismo e c'erano larghe fette della società e del paese che erano ancora prigioniere della mitologia del culto della forza della violenza del dominio della sopraffazione ai danni dei più deboli fossero donne fossero un'altra etnia fossero ebrei in questo senso quel delitto fu un delitto veramente politico e di classe non fu solo la violenza di maschi su donne perché i ragazzi del Circeo non toccavano le coetanee della loro classe ma quelle due ragazze che appartenevano alla working class alla classe operaia alla classe umile bene quelle potevano essere usate e buttate ed era veramente uno strascico di qualcosa con cui l'Italia non aveva ancora voluto fare i conti fin in fondo Dolino Mordini poi approfondiamo con Michela Marzano e Pagnoncelli Colino sono molto d'accordo con quello che dice nel senso che è stato molto eloquente e forse più più specifico di me però anche insomma facciamo attenzione a non tutto questo è vero facciamo attenzione a non associare la borghesia col fascismo sempre e comunque c'è borghese ambiente fascista quelle famiglie tra cui una di queste famiglie la rappresento io perché lei chi interpreta? Io interpreto sono la mamma della famiglia Arbus ho due figli mio figlio è un ragazzo brillante intelligentissimo studioso che io che io credo anche di conoscere ma sono una mamma un po' ignava ma non perché mio figlio sia altro da quello che sembra però lei è come se non si riede lei è una specie di palloncino che così così mi ha sempre detto Mordini tu devi essere come un palloncino a Elio che sta per la casa ed è orgogliosa dei suoi figli intelligenti belli non è una famiglia di destra la mia specificamente è una famiglia forse di sinistra colta che è più o meno di passaggio da quelle zone però dice Caprarica non è tanto lo status sociale ma lo status sociale è una parte di uno schema culturale così Caprarica poi Mordini e poi arriviamo a Michela Marzano ma certo no mi guardo bene dall'identificare la borghesia con una con una classe delinquenziale io dico che una parte consistente della borghesia romana di quegli anni aveva che era stata collusa con il fascismo e non aveva reciso tutti i legami sia pure con gli eredi del fascismo e certamente non con i suoi valori con il suo modo di leggere la vita di leggere il mondo per cui c'era la violenza e la sicurezza dell'impunità per la violenza che ti derivava dalla tua appartenenza di classe la storia del delitto lo dimostra Andrea Ghira non ha mai pagato per quello che ha fatto quindi da questo punto di vista ripeto un delitto politico e di classe ma non perché io identifichi Dione Scampi la borghesia con una classe violenziale Mordini perché vietate 18? Non lo so la commissione ha deciso che il film abbiamo parificato nel film le vittime e i carnefici prendendo a prestito la lezione di un professore all'interno della scuola interpretato da Gifuni che usa un paradosso su quel paradosso lì hanno costruito una censura io non sono arrabbiato sia chiaro sono sconcertato sono deluso la censura diciamo sì perché non si può entrare in questi termini detto questo vorrei chiarire il film non è un film sul delitto del circeo il film prende spunto ovviamente narra la storia della scuola cattolica raccontato da Albinati racconta il contesto in cui si è generato tutto questo e racconta le famiglie in parte in una sintesi e quel sentimento di quegli anni di impunità la scena che la censura ha deciso di prendere ad esempio è il tema del film l'impunità affronta l'impunità e dice Gifuni proprio nel momento in cui sei pieno di te stesso per far del bene stai attento che lì si può annidare il diavolo che ti tenta per cui sentirci al di sopra di tutti e quindi racconta dell'impunità è questo che affronta il film Michela Marzano tanti temi per una filosofa il primo è quello che tratta lei in stirpe e vergogna perché lei anche affronta il proprio passato per arrivare a delle radici che ora che ora ci spiegherà il secondo è il clima in cui si forma la mentalità che porta fermo restando il dato del libero arbitrio che porta al delitto del circeo prego allora intanto io sono d'accordo con Caparica quello che ha detto è fondamentale molto di ciò che accadde quel weekend è legato a conti non fatti con il nostro passato la differenza rispetto a quello che è stato detto è che io credo che i conti non siano ancora stati fatti qui si parla del 75 ma noi siamo nel 2021 e i conti ancora non sono stati fatti e lo dico io in prima persona io sempre stata di sinistra in Parlamento con le battaglie di sinistra la legge per le unioni civili e così via che mi sono scoperta all'età di 50 anni a scoprire che mio padre scusate mio padre è bello il lapsus comunque che ho fatto mio nonno è stato un fascista della primissima ora e questa è sirpa e vergogna e io questa cosa non la sapevo perché nella famiglia di mio padre c'era stata una grande amnesia quello che io chiamo un segreto di famiglia con qualcosa di secondo me inquietante che noi abbiamo con cui abbiamo a che fare tutti perché quando ho detto a papà papà io sto scrivendo questo libro e lui continuava a dire ma a casa non se n'è mai parlato io gli volevo dire ma papà è proprio questo il segreto di famiglia non è perché non se ne parla che non esiste anzi le cose passano di generazione in generazione se noi il passato non lo rielaboriamo noi non ne usciremo mai ma non erano tanti i fascisti all'epoca di suo nonno perché suo nonno dovrebbe avere una colpa particolare no no non ha una colpa particolare dopodiché mio nonno diventò fascista subito cioè stiamo parlando del maggio del 19 quindi i fasci di combattimento erano stati appena creati mio nonno rimase fascista dall'inizio alla fine mio nonno pagò perché venne epurato mio nonno poi venne eletto deputato monarchico la vita lo fece pagare ancora di più perché ebbe un ictus e si è ritrovato per 18 anni tetraplegico su una sedia a rotelle ma il problema è perché questo segreto di famiglia cioè perché non rilavorare esaminare dirlo senza vergogna cioè senza una vergogna che non cerchi un altro modo per esplicitarsi io ho sofferto di tante cose anoressia tentativi di suicidio il passato agisce e io invito i miei coetanee le mie coetanee che hanno una storia di sinistra a non aver paura e di dire rielaborare questo passato se vogliamo veramente fare in modo che l'Italia ne esca diceva Capradica e in qualche misura emergeva anche al confronto con Golino e Mordini erano tanti elementi che componevano una mentalità che potremmo anche definire tra virgolette fascista c'è una frase chiave nello splendido romanzo di Albinati nascere maschi è una malattia incurabile no per fortuna è curabile vorrei rassicurare gli uomini anche che ci stanno ascoltando e non è nemmeno una malattia il problema è come si incarna la virilità cioè quello che ci viene raccontato che si deve essere anche qui vi permetto di tornare al mio libro perché c'è comunque un elemento proprio intorno alla virilità mio nonno si chiamava Arturo Marzano fascista virile era lui che decideva era lui che faceva mio fratello il nipote si chiama Arturo Marzano mio fratello è gay come sarebbe stato trattato da mio nonno fascista mio fratello considerato dai fascisti come un non sufficientemente uomo ecco perché io dico noi abbiamo delle radici di cui non vergognarci da analizzare per fare in modo che questo mito della virilità violenta addirittura che può essere trattato come una forma di malattia che malattia non è venga come un modo di essere di incontrare gli altri di riaprirsi di distruire andiamo danando Pagnoncelli per vedere quanto abbiamo fatto i conti con la nostra storia ma Valeria Golino la virilità malintesa è uno degli elementi del ambiente culturale in cui si sviluppa il vostro film certamente assolutamente sì credo che abbia molto che vedere anche con la con la come dire con la violenza come dire introiettata che alcuni di questi ragazzi poi il dovere essere infatti non è una malattia non è incurabile essere maschi e maschi uomini è anche una bellissima cosa grazie secondo me è una bellissima esquisita però dico capito questi ragazzi per essere alla pari col modello che gli viene imposto reagiscono in maniera assolutamente sì che subiscono ma che in qualche modo li permea e poi diventano degli adulti con quel tipo di nando pagnoncelli quanto l'immaginario degli italiani deve ancora fare il conto con queste categorie o con la sua storia come dice Michela Marzano ne distinguerei l'aspetto legato all'immagine virile dell'uomo con il riferimento diciamo al riferimento storico e quindi fare conti col fascismo con il nostro passato quanto riguarda il tema la vicenda che ha suscitato uno scalpore enorme il delitto del cerceo è chiaro che ci fu riprovazione allora ma dall'ora in poi è cambiato anche in parte l'atteggiamento rispetto a questo tipo di reato cioè c'è molta più consapevolezza della gravità di azioni di questo tipo e questo è merito sicuramente dei mezzi di informazione che ne parlano di più ma anche delle agenzie educative delle famiglie insomma il ruolo tra maschio e femmina è un po' cambiato anche nella pedagogia degli ultimi vent'anni diciamo e questo è un primo elemento anche se un retaggio culturale rimane ancora e mi verrebbe da dire che molto spesso noi nelle ricerche che facciamo cogliamo una sorta di stereotipo di genere che è ancora profondamente radicato un certo tipo di immagine femminile è ancora molto presente dal punto di vista sia mediatico per esempio nella comunicazione pubblicitaria e così via cioè i cambiamenti culturali sono lenti vengo invece al fenomeno del fascismo vorrei menzionare una ricerca che abbiamo realizzato per l'associazione nazionale degli ex deportati nei lager nazisti l'abbiamo fatta qualche anno fa non molti anni fa ma solo sui giovani per capire cosa sanno i giovani del fascismo cosa ne pensano magari possiamo vedere dei cartelli il cartello 40 per esempio giovani tra i 16 e i 25 anni abbiamo chiesto quanto sai del fascismo quanto sai del regime fascista e vedete appunto che più di 3 su 4 giovani tra i 16 e i 25 anni dicono sì ne so molto ne so abbastanza però vedete un 21 dice poco e uno addirittura confesse non saperne nulla però la cosa interessante mi pare nelle successive domande abbiamo chiesto che cosa pensano del concetto di antifascismo lo vediamo col cartello 41 il 62% cioè due giovani su tre sempre tra i 16 e i 25 anni ritengono che sia un tema ancora attuale e importante ma un 24% un giovane su 4 ritiene che sia un tema ormai superato dalla storia il 14% non si esprime ma guardate la terza domanda con il cartello 42 cosa è stato il regime fascista di Benito Mussolini guardate il 66% dei giovani dichiara che è stata una dittatura da condannare in parte ma che ha portato anche benefici il 29% ritiene al contrario che sia stata una dittatura da condannare completamente perché ha lasciato terribili ferite e il 5% invece ritiene che sia una forma di governo positiva che ha mantenuto l'ordine e portato benessere il 5% dei giovani insomma ce n'è abbastanza per dire che non abbiamo ancora fatto i conti con il passato se queste sono le opinioni dei giovani grazie Nando allora vi ricordo stirpe e vergogna Michela Marzano in libreria il film di Stefano Mordini la scuola cattolica con Valeria Golino grazie grazie a nostri ospiti grazie benvenuto Luca Barbarossa buonasera benvenuto uno dei più celebri cantatori italiani una carriera di grandi successi 11 album ha vinto il festival di Sanremo da anni conduce Radio 2 e Social Club ma adesso è anche in libreria con un libro che sta avendo un bel successo Non perderti niente di Mondadori allora di che parla? beh è un libro che mi sono regalato per i 60 anni al compimento dei 60 per elaborare il lutto diciamo e beh mi sono capitate tante cose secondo me che andavano condivise che meritavano di essere raccontate perché insomma sono partito da quando da ragazzo da adolescente facevo un musicista di strada fino a poi tutto quello che sono riuscito a combinare con la mia chitarra con le mie canzoni con i viaggi e con gli incontri e quindi alcune cose che rimangono sempre dietro le quinte secondo me meritano di essere conosciute perché un libro e non una canzone? beh una vita in una canzone non ci sta secondo me per la prima volta scrivo senza metrica senza costrizione di metrica e musica e di accenti e scrivo in libertà potendo entrare un pochino meglio nel dettaglio insomma allora abbiamo detto è un libro che sta avendo un bel successo è un libro in qualche modo in cui si riconosce anche una generazione probabilmente noi abbiamo provato a parlarne attraverso i luoghi che descrivi allora Roma iniziamo dai luoghi il libro parte da Piazza Navona Piazza Navona erano gli anni 70 io avevo 16 anni non avevo né contratti discografici non c'erano i talent show non c'erano quindi la nostra palestra era quella e la strada era diventata un po' la mia seconda casa io mi esibivo per strada facevo musica per lo più folk americano da Dylan a Woody Guthrie e cose del genere e mi sono fatto le ossa da Piazza Navona poi sono partito ho fatto il Giro d'Europa con chitarra e saccappelo con un po' di amici e in tutte le città sono successe tante cose tanti incontri anche magici particolari il Giro d'Europa con beh innanzitutto ci sono le vacanze estive ah vabbè e poi non ero non ero propriamente un secchione diciamo che prendevo delle pause un pochino più lunghe di quelle che erano le vacanze allora ritorniamo a Roma però Roma era uguale alla Roma di oggi? no Roma non era uguale a quella di oggi erano gli anni 70 gli anni 70 nel bene e nel male da una parte gli anni di piombo da una parte la drammaticità di aver perso anche degli amici noi eravamo la nostra generazione è stata invasa dall'eroina anche oltre che da una politica spesso estremista eccessiva tu facevi politica? io sì io sì la facevi come la facevano i tuoi fratelli più grandi o con quella diciamo anche leggerezza che ti contraddistingue ora come conduttore come scrittore la capacità di essere leggero ma profondo beh no all'epoca la leggerezza entrava poco nella politica ci si credeva sul serio quando la scopri la leggerezza nell'esprimerti la capacità di usare le parole in maniera lieve beh stando sul palco il palcoscenico serve ad alleggerire la vita delle persone cioè quelle due ore che tu stai su un palcoscenico che sia un concerto un programma radiofonico uno programma televisivo uno cerca di portare sì qualche riflessione delle emozioni ma anche un po' di sorriso insomma perché la vita è già complicata di suo allora a Roma inizi a cantare quindi per strada a Piazza Navona e tu dici Roma è de tutti che vuol dire? sì questa è una canzone recente però ma Roma è de tutti perché nessuno è più romano di chi romano ci si sente dico nella canzone perché poi Roma è uno stato d'animo non è solo una città è un modo di vivere io credo che abbiamo esempi anche tra grandi intellettuali di persone che un po' romane ci sono diventate pur non essendolo vedi Fellini che abitava via Margutta e che per certi aspetti era più romano di tanti romani ma Roma è una città avvolgente insomma che quando la conosci non ti molla più mi dici chi voti al ballottaggio? al ballottaggio? c'è un ballottaggio? sì sono michetti contro qualtieri ma io guarda io credo che mi piacerebbe che noi riuscissimo a uscire dalla politica che prevede l'uomo della provvidenza o la donna della provvidenza in questo caso nel senso che credo che Roma sia un affare complicato e credo che sia un affare che non risolverà un sindaco Roma è una città stato dicono che sia dieci volte Milano e Milano è la città più importante che abbiamo in Italia a livello di scambi con il mondo io credo che per Roma ci voglia un progetto un pochino più ambizioso un pochino più ampio dove la politica anche quella del governo centrale entri nel merito delle questioni non si risolve così scegliendo un nome io non credo che un sindaco possa possa ovviare a problemi che ci portiamo dietro da tanto tempo dunque tu da ragazzino però vai a Mentana che è una cittadina vicino a Roma quello cosa ti insegna? mi insegna che la provincia è una grande è una grande fonte di ispirazione perché dalla provincia uno vuole fuggire per andare nelle grandi città almeno a quell'età tu hai fatto il percorso inverso da ragazzo io da ragazzo proprio nel piano dell'adolescenza andiamo a abitare isolati completamente isolati in campagna e scopro il valore della noia che è quello che forse manca oggi perché oggi ogni spazio è riempito dalla tecnologia dai telefonini dai messaggi quando è stato? ieri c'è stato un blocco di sei ore di Whatsapp ho mancato il fiato finalmente ho parlato con i miei figli mi hanno raccontato qualche cosa quello che era successo a scuola sono stati costretti e quindi scoprendo la noia ho scoperto anche come si impara a suonare la chitarra come si gioca a scacchi ho letto più libri di quelli che avrei senz'altro ho letto stando sempre in mezzo alla città e a quello che succedeva in città e poi la voglia di fuggire che è una grande spinta interiore che ti porta a Londra in qualche misura sì a Londra allora raccontaci Londra in che anni siamo? Londra era la nostra Mecca il nostro paradiso era tutto per la generazione che tu rappresenti era il centro del mondo io sono un ragazzo del 61 sono un ragazzo del 61 e Londra era era tutto in quel momento Londra chiama diceva Londra chiama ed ero disposto a tutto pur di rimanere a Londra ero una capra in inglese a scuola la professoressa mi faceva leggere quando avanzavano 5-10 minuti dice facciamo leggere Barbarossa ci facciamo due risate e in effetti ridevano tutti invece stando lì ho imparato innanzitutto ho imparato a fare il cameriere o il lavapiatti ho imparato la lingua e tutte le mance me le spendevo per andare a sentire i concerti che musica? allora c'era tanto punk era la seconda metà degli anni 70 io ho 17 anni e c'era tanto punk nei pub si suonava si suonava quella musica là io però mio padre mi ha attaccato alla malattia del jazz quindi andavo a Ronnie Scott che è un club di jazz meraviglioso dove potevi sedere su una poltrona più o meno come questa ordinare qualcosa da bere o da mangiare e avere a questa distanza di siglesbi che suonava per me un sogno non solo di siglesbi ma incontri tante persone interessanti io qua vedo Diego Armando Maradona incontrato beh questo un po' dopo beh certo all'epoca non era l'impresario di Napoli Mario Savino mi disse Diego vorrebbe venire a un tuo concerto erano gli anni degli scudetti del Napoli e suonavo a Napoli alle terme di Agnano e nel parco quindi davanti a migliaia e migliaia di persone dovetti nascondere Maradona dietro la colonna dell'impianto quindi Maradona io suonavo sorridendo perché i napoletani non sapevano che c'era che c'era Maradona nascosto dalle casse ha ballato non so come per tutto il concerto perché non è che proprio io faccia della musica ballabile ma lui ballava bene aveva la musica dentro e alla fine al bisso lo fece uscire e ci fu un tripudio il palco ancora trema perché per Bruce Trinstein ha incontrato anche sì a Sanremo a Sanremo credo fosse il 96 era ospite con un disco magnifico The Ghost of Don Jode e qualcuno aveva scritto che Sprinstein a Sanremo era una cosa stridente non non gli avranno detto tutto cosa rappresenta il festival rispetto ai temi che lui tratta nelle sue canzoni io invece scrissi un articolo mi pare sul Corriere della Sera o su Repubblica adesso non ricordo di difesa Sanremo è un contenitore arriva un grande artista come come Sprinstein è un'opportunità per milioni di italiani insomma e quindi lui mi tradussero questo articolo Susan la discografica che condividevamo della della Sony Music e volle conoscermi poi mi invitò a Roma al suo concerto e passamo del tempo insieme persona straordinaria gli artisti spesso più sono grandi e più sono semplici più sono semplici perché la semplicità e questo è l'elemento che poi è contenuto nel tuo libro noi abbiamo parlato delle origini abbiamo parlato di quello che ha portato il successo non perderti niente e il legame tra i due momenti sì c'è c'è la mia vita prima di arrivare al mio primo Sanremo alle prime esperienze professionali quindi c'è la mia adolescenza ci sono momenti anche dolorosi anche storie abbastanza difficili ci sono due grandi storie d'amore in questo libro il libro apre con una storia d'amore molto che è una ferita per me insanabile con una ragazza che appunto era tossicodipendente chiude con una grande storia d'amore che per fortuna è ancora in corso almeno fino a che sono uscito da casa andava tutto bene poi dopo verifico e che ci ha fatto costruire una cos'è che ti saresti perso volentieri? cos'è che mi sarei perso volentieri? beh tante cose mi sarei perso volentieri mi sarei perso volentieri da ragazzino vabbè la separazione dei miei genitori che è stato è stato un momento secondo me per quanto mi riguarda difficile mi sarei perso volentieri anche una certa mia superficialità negli anni del liceo in cui non approfondivo insomma ero sempre un professionista della fuga con gli anni poi ho scoperto la voglia di andare in fondo alle cose di capirle meglio lo sai fare benissimo un bellissimo libro non perderti niente di Luca Barbarossa grazie per essere stato con noi grazie a voi noi abbiamo una piccola pausa e poi Laura Gobetti i giornali di domani Laura Gobetti allora un po' su tutti i giornali si parla di quanto accaduto con la legge delega la parola più utilizzata è crisi crisetta ma soprattutto strappo vediamo subito i titoli Repubblica Fisco lo strappo di Salvini sul Corriere della Sera invece Salvini strappa appunto Draghi va avanti i fatti cosa è successo abbiamo detto il Consiglio dei Ministri approva la legge delega sulla riforma fiscale precedentemente nel tavolo di regia si alzano i Ministri della Lega vanno a visionare il testo presentato poi non si presentano però al Consiglio dei Ministri in conferenza stampa Draghi insieme al Ministro per l'Economia Franco dice che il gesto è un gesto serio per valutarne effettivamente le conseguenze bisognerà aspettare le parole di Salvini che puntualmente convoca una conferenza stampa e dice la legge delega non è l'oroscopo non si può presentare un testo mezz'ora prima e vedremo poi quali saranno appunto le conseguenze di questo gesto come dice Draghi sul manifesto è stato nostro ospite con molto piacere nuovo Nobel per la fisica Giorgio Parisi per il suo lavoro sui sistemi complessi e per quelle che sono le implicazioni di questo lavoro si va dall'intelligenza artificiale fino ai cambiamenti climatici il Fatto Quotidiano fa ancora un'analisi torna sul voto delle comunali sorpresa dice Fatto Quotidiano ha perso voti pure chi ha vinto perché retromarcia sala poco sopra i dati del 2006 tutti gli altri dem arretrano centro irrilevante boccia dice PD con Movimento 5 Stelle e moderati questo è Fatto Quotidiano un altro protagonista che conoscete bene Galli siamo su Libero associazione a delinquere indagato per questo per aver favorito due candidate indagato appunto il professor Galli indagato a vario titolo insieme ad altri ovviamente chiudiamo con il giornale parliamo di una inchiesta riciclaggio e fondi illeciti PM l'assatto di fidanza e company si tratta dell'euro parlamentare di Fratelli d'Italia indagato per la violazione della legge sul finanziamento illecito ai partiti un'inchiesta che è partita da una video-inchiesta di fanpage grazie Laura non resta che ricordare che fino al 10 ottobre con sms o chiamata al 45521 potete sostenere la fondazione AIRC contro le forme più aggressive di tumore al seno ci vediamo martedì a lei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti